Bene, allora ringrazio per avere accolto l'invito a tutti i presenti. Prima di salutare tutti e di dare il benvenuto in questa università, anche a nome del direttore del Dipartimento, il professor Remo Iob, che mi ha pregato di presentarvi i suoi saluti e i suoi omaggi, vi dico subito che purtroppo stamattina ho lezione con il corso educatore professionale del primo anno, quindi dopo questo saluto sarò costretto a allontanarmi, ma poi ovviamente tornerò fra voi. Ringrazio tutti i presenti di essere qui e vorrei solo ricordare che ci sono due aspetti molto importanti dell'incontro di questa mattina e degli incontri che vengono organizzati con periodicità regolare. Il primo è ricordare sempre che l'educatore si chiama professionale e quindi fare questo lavoro è una professione. Ed essendo una professione ha bisogno, come ogni professione che si rispetti, di una formazione in servizio che ci consenta di rivedere continuamente le nostre posizioni, i nostri strumenti e anche le nostre convinzioni. Per cui una delle funzioni fondamentali di questi incontri è proprio darci l'opportunità di sentirci perennemente in formazione. Il secondo aspetto, che riguarda proprio gli ordini del giorno di questo convegno, di questo seminario, è proprio la stretta connessione fra i lavori di cura e la dimensione politica che i lavori di oggi sottolineeranno e analizzeranno. Non possiamo mai pensare che un lavoro che riguarda l'educazione non abbia a che fare con la politica, intendendo ovviamente per politica il termine più alto e originario del termine. Non si sta parlando della politica dei politici o la politica spesso degenerata con la quale ci troviamo a che fare. La politica è la vita della polis, è la partecipazione a ciò che è pubblico. E come ricordava il mio maestro, che molti di voi conoscono almeno di scritti, Piero Bertolini, non c'è quasi distinzione o perlomeno c'è una distinzione molto leggera fra il lavoro pedagogico e il lavoro politico perché entrambi sono lavoro sul presente volto al futuro con un progetto e un'attesa. Dunque, su questa forte convergenza strutturale e fondamentale, vi lascio. Lascio ai miei colleghi il compito di guidare questa mattinata e vi do appuntamento personalmente a più tardi. Grazie e arrivederci. Ciao. Grazie al professor Marco Dallari, docente di pedagogia generale sociale in questo dipartimento e anche Marco Dallari è il direttore della didattica del corso di laurea in educazione professionale. Nonché il direttore è fondatore del laboratorio di comunicazione e narratività che ha sede nel palazzo di fronte, palazzo Fedrigotti, ed è un laboratorio di ricerca sulle metodologie della didattica, quindi è molto interessante, con lui stiamo lavorando ormai da tempo e così vi do anche qualche informazione di contesto su questo incontro di oggi. Stiamo lavorando appunto da tempo per cercare un pochino di unire la didattica con la ricerca. Sapete che l'università dovrebbe essere questo ed è molte volte il luogo della conoscenza e questa conoscenza appunto dentro l'università si esercita con la didattica e con la ricerca. Abbiamo cominciato quasi un anno fa a rendere pubblica questo impegno di questo dipartimento e del laboratorio di comunicazione e narratività l'impegno nella ricerca in educazione professionale e sociosanitaria con questo convegno che c'è stato a gennaio, nel gennaio scorso, e il 31 gennaio, proprio qui al Teatro Rosmini. In quell'occasione 300 persone, operatori, educatori, studenti, dottorandi, docenti di 13 regioni d'Italia, hanno partecipato. Ecco che arriva Ennio Ripamonti. Benvenuto. Vieni pure, accomodati qua con noi. E quindi con questo convegno ha messo in luce, ha dato visibilità a questo avvio di cercare di mettere insieme chi in Italia ha voglia di fare ricerca in questo campo. Fare ricerca significa appunto andare a esplorare, andare a analizzare attraverso varie modalità che vorremmo che fossero tipiche dell'educazione, quindi del nostro campo. Le esperienze che sono esperienze in Italia a volte eccezionali, straordinarie, esperienze diffuse in tutto il territorio, esperienze che hanno ormai un'esperienza di 40-50 anni, una storia di 40-50 anni, sperimentate, verificate, monitorate, con professionalità, con sensibilità, con umanità. Eccellenze e impegno veramente straordinario che molto spesso non è ascoltato, non è valorizzato, non è ben compreso, soprattutto diciamo in questo ventennio, insomma, da una classe politica che abbiamo visto è stato un po' un muro di gomma di fronte ai problemi posti dal nostro mondo. Tanto che comunque, per non entrare nel campo di Johnny Dotti, che poi mi seguirà, ma nel campo universitario abbiamo solo 13 corsi di laurea in educazione professionale in Italia, abbiamo solo un'unità di ricerca ufficiale strutturata in Italia, che è il sottoscritto, che ancora è l'unico e solo in Italia educatore professionale ricercatore strutturato. Questo non per merito mio, ma certamente per merito di un trentino e di una università locale che ha capito e ha messo in campo questo tipo di impegno, cosa che in altre parti d'Italia non è ancora avvenuto per tantissimi motivi inutili che stiamo qua adesso. Ma questo per dire che il contesto nel quale ci muoviamo è un contesto un po' pioneristico da questo punto di vista, almeno dentro l'università, non fuori dall'università, perché fuori dall'università iniziative, impegno di ricerca e di divulgazione delle esperienze ci sono e sono importanti, anche se molto spesso, quasi sempre e solo a livello italiano. Poche sono le esperienze di internazionalizzazione delle nostre storie, delle professionalità e dei lavori di ricerca. Detto questo, abbiamo cominciato un anno fa, c'è stato questo convegno che ha richiamato tante attenzioni, a seguito di questo poi adesso stiamo organizzando quello internazionale 30 e 31 gennaio prossimo, c'è stato un seminario di formazione continua locale, intitolato educatore e formatore, questo è il secondo seminario sempre di formazione continua locale, ce ne sarà poi un altro. Nel frattempo, anche qui abbiamo portato avanti attività di ricerca. Il contesto di punto di incontro, diciamo il punto di incontro contenutistico che abbiamo avviato recentemente, è questo sito che voi vedete alle nostre spalle, Explorance, che appunto è il contenitore, vuole essere il contenitore per chi sta, è intenzionato, vuole fare ricerca e pubblicare i propri lavori. Abbiamo cominciato da poco, quindi è un progetto nuovissimo, e ci stiamo lavorando molto, per cui siete invitati, se ancora non lo siete, a iscrivervi poi alla newsletter che abbiamo cominciato a mandare, proprio abbiamo mandato appena i primi due numeri, questo proprio per tenerci informati, tenerci in collegamento e vedere se riusciamo a, appunto, per usare una parola importante per oggi, di promuovere alcuni contenuti, che sono i contenuti della ricerca in educazione professionale sociosanitaria. Il sito è in italiano e in inglese perché il tentativo è quello, con il convegno che ci sarà a fine gennaio, di cominciare a comunicare, a scambiare, comparare esperienze con altri colleghi di altre parti del mondo. che sono interessati, come dire, a lavorare, a scambiare le proprie esperienze e anche a imparare. Quindi, ecco, queste sono una serie di azioni che come laboratorio di comunicazione e narratività di questo Dipartimento stiamo facendo. e quindi, questo per dirvi un pochino il contesto. Per entrare un po' sempre di più nel programma di oggi, l'altra volta abbiamo fatto un seminario sempre rivolto agli operatori, agli educatori del territorio, intitolato educatore formatore. Quindi cerchiamo di dare, come dire, aiutare ad aggiornare la figura dell'educatore professionale attraverso un po' una lettura di quello che sta avvenendo attorno a noi. La competenza della formazione, l'altra volta, abbiamo fatto questo lavoro di esplorazione, di discussione insieme rispetto all'importanza che l'educatore negli anni sia capace di diventare anche formatore. Che è una competenza che si acquisisce nel tempo, non si può acquisire certamente durante il triennio. Ecco, qui abbiamo presenti alcuni studenti del terzo anno che, proprio in terzo anno, cominceranno a esplorare e studiare la competenza di gestione di quello che è un gruppo, un gruppo di lavoro. E quindi cominciano ad entrare questi germi dell'eventuale futuro formatore, cioè capace non solo di gestire interventi diretti con le persone direttamente in difficoltà, ma anche di favorire e facilitare processi di formazione con loro, ma anche con altri. Questa volta è l'educatore promotore. Ecco, quindi questa è la parola chiave di oggi. Abbiamo chiesto a Ennio Ripamonti e a Gianni Dotti di aiutarci in questa giornata. Ringrazio davvero per essere qui oggi. E anche per la disponibilità di scambiarvi i ruoli della giornata per via di organizzazione un po' dei tempi. Infatti inizierà Gianni Dotti in realtà questa mattina, farà lui l'intervento introduttivo. E poi nel pomeriggio sarà Ennio Ripamonti a raccogliere le sollecitazioni che arriveranno dai gruppi di lavoro e a rilanciarle con i propri contenuti e la propria esperienza, che è molto diffusa in questo campo. Quindi due informazioni organizzative prima di passare la parola al nostro Gianni. Quindi faremo questa parte di comunicazione. Era previsto immediatamente poi, o dopo una piccola pausa, di dividerci nei gruppi. Ma siccome Gianni Dotti andrà via a termine della mattinata, non potrà rimanere ad ascoltare un po' le vostre restituzioni, facciamo subito dopo il suo intervento una... Siccome è importante, insomma, ecco, sfruttarlo finché è qua. Facciamo subito un breve dibattito, quindi se avete qualche domanda, poi chiarimento o solecitazione da fare, cerchiamo immediatamente di scaldarci, tanto siamo bravi, ormai esperti, entrare un po' nel clima della giornata e quindi poi dopo possiamo liberare Gianni Dotti, che deve tornare per un impegno importante. E quindi successivamente poi ci divideremo in tre gruppi, in tre workshop di lavoro, che lavoreranno fino ai 12 e mezza. 12 e mezza facciamo una pausa a pranzo e le due torniamo ancora nei lavori di gruppo, con il compito nella seconda parte di preparare un po' di domande tra bocchetto per Ennio Ripamonti, cioè di preparare magari qualche stimolo a seguito del lavoro di riflessione, di scambio, del lavoro di gruppo. E quindi poi chiudiamo con Ennio Ripamonti e facciamo il dibattito finale. Questa è l'organizzazione della giornata. Direi questo per introdurre e ringraziare Gianni Dotti, che è importante la sua presenza qui oggi, perché ha un'esperienza molto importante nel campo dell'impresa sociale, della cooperazione sociale. Per molti anni è stato guidato il consorzio Gino Mattarelli, che è il più importante consorzio, la più grande rete italiana di cooperazione sociale, pensate con 1.100 cooperative associate, di cui oggi è ancora consigliere delegato. e presiede dal 2009 Welfare Italia, un'impresa sociale che offre tutta una serie di servizi. Inoltre è anche docente a contratto dell'Università Cattolica di Milano. La cosa interessante è questo mix, ve ne accorgerete, questa capacità di mettere insieme la sua storia di studioso in pedagogia, quindi in scienze dell'educazione, con la dimensione della competenza imprenditoriale. Un mix che ci interessa particolarmente oggi per il tema dell'educatore promotore. Allora, qualcuno dice che l'unica vera grande riforma che c'è stata in Italia è stata la riforma del 1978, che ha impiantato il Servizio Sanitario Nazionale. in quella riforma che ha davvero riorganizzato, rimpostato da tanti punti di vista il sistema dei servizi sanitari, dando un'impronta molto sociale anche all'organizzazione della rete dei servizi, si parlava di prevenzione, cura e riabilitazione. Sono parole ancora molto importanti che forse vanno un po' esplorate di più, vanno aggiornate, e certamente oggi la questione della prevenzione la usiamo sempre, è un termine che si usa sempre meno, ma dietro a quel termine c'era un valore molto importante. Oggi lo forse cominciamo a enucleare come prevenzione, come promozione, scusate. Oggi la promozione è uno degli strumenti, ricrediamo, nuovi, delle competenze nuove di un educatore professionale che non può solo e più rimanere un riabilitatore. Quando nasce la figura dell'educatore professionale e viene approvata dal Ministro della Sanità, le spinte a farne un riabilitatore in termini sanitari tradizionali erano forti. Però negli anni, per l'impegno di molti, si è riusciti a smarcarsi da questa logica esclusivamente sanitaria. Non da tutte le parti, naturalmente, ma ci abbiamo provato. Oggi, oltre a questo smarcarci, vogliamo con coraggio intraprendere nuove strade per capire e cercare di interpretare i nuovi problemi e i nuovi bisogni che i territori ci impongono di affrontare. Benissimo. Detto questo, lascio la parola e ringrazio Gianni Dotti per il suo intervento introduttivo. Un grazie non formale sia a Dario che a Ennio, a cui sono stato costretto a chiedere questo spostamento perché ho un impegno nel pomeriggio. Lo spostamento richiede probabilmente il fatto che le cose che volevo dire cercherò di dirle in modo un po' più accentuato. Nel senso che questo permette poi forse anche delle reazioni. Più accentuato vuol dire forse anche in modo un po' più grezzo perché c'è un po' meno tempo. Quasi fino a farmi non capire forse, ma va bene, se questo serve ad accentuare la vostra reazione. La tesi è che per reggere nei prossimi 30 anni reggere una convivenza decente, quindi con un welfare sufficientemente significativo, noi dobbiamo radicalmente passare da un sistema fatto da denaro e prestazioni a un sistema che privilegia i legami e i significati. Questo ha delle implicanze notevoli anche sulla nostra, vostra professionalità. Questa tesi la lasciamo lì un po' nello sfondo. Quasi può sembrare banale, ma fidatevi, banale non è. Nell'immaginare poi chi siamo, dove siamo, che cosa facciamo. Però vorrei collocare questa tesi che per me è abbastanza evidente almeno da una decina d'anni. Ho cercato, nelle responsabilità che avevo e nelle organizzazioni in cui sono stato, di renderla anche fattuale attraverso delle innovazioni, attraverso delle nuove attività che magari poi vi racconto. Diciamo che oggi questa tendenza, questa tesi che ho cercato di enunciarvi diventa assolutamente urgente e importante alla luce dei cambiamenti radicali che sono già avvenuti. Da tempo sostengo che noi non siamo in una crisi, noi abbiamo proprio cambiato mondo. La crisi ha l'idea che finisce. No, qui non finirà. State sereni, tranquilli. Noi abbiamo cambiato mondo in questi otto anni. Non sappiamo in che mondo siamo finiti, in particolare in Italia. Perché in particolare in Italia stavamo dentro una capsula che stava dentro una capsula. Cioè non avevamo neanche capito cosa succedeva nei vent'anni precedenti. E quindi provo a dirvi, secondo me, quali sono le caratteristiche che connotano questo tempo. Che appunto continuiamo a chiamare di crisi, ma vi inviterei... Cioè un matrimonio che è in crisi di otto anni è buona cosa che vada verso una separazione. Giusto? Cioè noi siamo in crisi di otto anni e dovremmo quantomeno scioglierci. Quindi non chiamiamolo crisi se immaginiamo di esistere ancora. Cerchiamo di dargli un volto. In questo senso, rispetto a quello che diceva la persona che ha introdotto l'incontro, il professore che ha introdotto l'incontro, dall'Aila, c'è una grandissima consonanza tra la riflessione educativa pedagogica e la riflessione politica. Non si possono slegare. Insomma dire che chi ha una tensione educativa non è un semplice specialista dell'educazione. È una persona che al fondo ha una tensione morale, filosofica, politica, etica verso l'uomo. Perché immagina che questo uomo abbia una sua possibilità di esistere, abbia una sua desiderio di futuro, abbia una sua... E questa è politica. In questo senso vi invito a riflettere sui contesti. Non lavorate solo, tra virgolette, sul testo educativo, per usare una metafora. E lavorate costantemente anche sui contesti. Allora, la mia proposta è che noi siamo in un tempo che almeno in quattro aree ha delle caratteristiche molto particolari. L'area economica, l'area politica in senso stretto, cioè della rappresentanza democratica, l'area sociologica, cioè della costruzione dei significati e dei legami dentro la società, e l'area antropologica. Sono successe, diciamo, in queste quattro aree delle cose irreversibili. sull'area economica. Noi venivamo, dopo la caduta al muro di Berlino, da una corsa che era un po' impazzita, che sostanzialmente ha trascinato tutto l'Occidente e trascinando l'Occidente si è trascinato mezzo mondo, perché l'Occidente è il portatore della cultura tecnico-scientifica, che è il mito dominante. e quindi quando parte lui, parte mezzo mondo attraverso queste cose qui, che sostanzialmente era sogniamo un consumo infinito a fronte di una produzione infinita, a fronte di risorse infinite sostenuti da un debito infinito. No, no. Ci sarebbe da fare un ragionamento anche teologico, di questa questione dell'infinito riportato a un'immanenza materiale. No, no. Ci sono cose profonde che, come vedete bene, vi riguardano poi nelle relazioni con le persone, perché le vedete saltare fuori costantemente. bene, questa idea che ha coinvolto tutti, perché adesso c'è il gioco dei cattivi della borsa di New York che hanno speculato sull'immobiliare. Sì, quello è stato l'ultima bolla, ma il meccanismo ci ha coinvolto tutti. Ora, facendo la strada che ho fatto da Rovereto a qua, ho incontrato tre grandi centri commerciali. sono i santuari esattamente popolari di questa forma idolatrica che ci ha coinvolto tutti. Non so un tempo voi qua, i vostri nonni dove a che santuario di Madonna andavano al sabato e alla domenica a mangiare non so che cosa insieme ad altri. Oggi al sabato e alla domenica adesso sempre di meno infatti scomparirà quel fenomeno lì e si va al santuario dell'ipermercato. Non si sa bene a far cosa, eh. ma si va. Uso questo questo simbolo molto concreto che ha segnato anche la vita ai territori ma quello è stato un meccanismo che si è infartuato nel 2008. È come se noi attraverso la finanza che è esattamente diciamo la parte finale del meccanismo che serviva ad alimentare il debito infinito siamo arrivati a stressare talmente tanto il corpo che il corpo ha avuto un infarto. il corpo non potrà più fare quello che ha fatto prima, eh. No, ma questo eh no, non è così se voi seguite i tre giornali la luce in fondo al tunnel tra tre mesi non credeteci, eh. Ve lo dice un amministratore di una banca sono anche amministratore di una banca nel mio diciamo non credeteci assolutamente, eh. Non c'è nessuna ripartenza prevista nei prossimi sette, otto, nove, dieci anni. Non si riparte. Immaginando i diciamo gli indicatori di prima ciò che era ripartenza e crescita e sviluppo prima ma sapete banalmente perché? Perché sulla testa noi abbiamo un ammontare di derivati che sono esattamente l'iscatolamento del debito del debito del debito che montava la possibilità che voi anche se guadagnavate 800 euro al sabato all'ipermercato compravate una televisione da 800 euro questa montagna questa nuvola fantoziana così io la chiamo vale dieci volte il pil del mondo a stare prudenti perché i calcoli non li sa fare bene nessuno dieci volte il pil del mondo avete capito il pil del mondo di soldi che non ci sono ci abbiamo ancora sulla testa finché noi quelli non li abbiamo assorbiti e addirittura c'è chi immagina che invece la crescita sia allarghiamo ulteriormente la nuvola non c'è niente da fare quel che vedete un po' volgarmente in Italia un po' provincialmente di questo aumentare sotterraneo di tasse perché questo sta avvenendo è esattamente un po' di sgonfiamento di quella nuvola bisogna portare denaro vero vi do un altro dato sostanzialmente i paesi occidentali e per occidentali non intendo per forza purtroppo la sfera occidentale del mondo occidentali come penetrazione delle tecnostrutture finanziarie scientifiche economiche di pensiero sta intorno al 400% del debito se voi montate e fate la somma del debito delle famiglie di quello delle imprese di quello delle banche di quello degli stati sostanzialmente Giappone America Francia Germania stiamo intorno al 400% del PIL siamo tutti lì poi l'Italia siccome noi come al solito abbiamo le nostre furbizie l'abbiamo scaricata di più sullo Stato e ci siamo un po' più difesi come famiglia ma se voi guardate il trend degli ultimi 5-6 anni l'indebitamento delle famiglie è in forte crescita anche in Italia super giù siamo lì ora voi dite e beh giovane allora allora figlioli qui siete molto giovani e bisogna pensare un'altra storia nessuno ce l'ha in mente l'altra storia mi prendo la responsabilità di quello che vi dico sono un povero contadino bergamasco ma giro abbastanza per il mondo nessuno ce l'ha in mente e punto siamo tutti l'inattesa della luce in fondo al tunnel cioè che è una roba veramente da psicotici chi lavora con gli psicotici ecco è come se noi fossimo in una bolla psicotica in questo momento confermati dalle nostre stesse paure e continuiamo a lavorarci dentro capito non le rappresentiamo neanche non le narriamo neanche no e allora la domanda è come si creerà valore questo è il tema vero economico nei prossimi anni parentesi non lo dico polemicamente ma voglio che siete responsabili guardate che il gonfiamento del welfare ha partecipato all'operazione ripeto i cattivi non stanno sempre solo da un'altra parte tutti noi abbiamo partecipato ad esempio il welfare collegato all'idea del consumo di servizi dell'aumento della moneta qualche domanda ce la dobbiamo fare senza sensi di colpa io sono un povero cattolico ci ho messo una vita dell'ebrame in sensi di colpa però un sano senso della domanda dobbiamo farcela forse anche noi abbiamo giocato al supermercato dei servizi sociali per cui siamo arrivati a immaginare lo nanoterapia la piscioterapia cioè di quelle robe pazzesche perché bisognava è tutta una terapia capito e lo specialista di quella terapia il sottospecialista di quella terapia se voi guardate la quantità di denaro che gli antipubblici hanno messo a disposizione dei sistemi di welfare comunque è assolutamente significativa fino al 2010 stiamo parlando di una fine anni 70 dove il tema che ci riguarda di più era generalmente gestito da una maestra in pensione anche in un comune come Trento e siamo arrivati a una quota di bilancio che generalmente è il secondo terzo voce di bilancio in un ente locale ecco questa consapevolezza bisogna averla la domanda è per fare che cosa o lo dice uno che ha partecipato responsabilmente al film quindi io non mi tolgo ma io questa domanda non posso non farmela visto che il mondo è cambiato allora la domanda è come produrremo valore chi produrrà valore quali sono le aree del valore che cosa è il valore io lo dico forse usciamo dal mito dell'uomo consumatore uomo economico su uguale uomo consumatore purtroppo il mio amico Renzi recentemente ha alimentato ulteriormente sta storia dagli 80 euro che consumano e ripartiamo non è ripartito niente ma è evidente che non ripartiva niente anche se ce ne dava 800 non ripartiva niente perché nella paura la gente tende a conservare mica a spendere per fortuna perché c'è una certa saggezza popolare guardate che se prendete chi di voi segue un po' i progetti europei è stato clamoroso in questi vent'anni come c'è un automatismo nei progetti europei tra l'addizione cittadino e l'addizione consumatore pazzesco cioè è stato un automatismo assolutamente funzionale a quel giochetto che vi dicevo prima perché poi il consumo era infinito ecco si è infartuata questa cosa dopo l'infarto che c'è noi che centriamo con questa cosa prima proposta io sostengo da tempo insieme ad altri che il welfare non è solo un luogo di consumo di risorse è un luogo di generazione di risorse anche economiche capisco che possa essere provocatorio ma va bene che non vuol dire che per stare nelle cose di oggi faccio i soldi con i nomadi e gli immigrati sui soldi pubblici ma immagino di generare un valore per una comunità attraverso quelle attività è chiaro che se sto dentro il paradigma servizi prestazioni non generano nessun valore sto solo nell'area costi mi state capendo un po' è troppo complicato sì oh vado tu dammi qualche colpo se allora questo è il tema economico gigante ma anche un grande tema per chi vuole diciamo spingersi il secondo tema è quello politico non partitico è politico è evidentissimo che da almeno 15 anni noi stiamo assistendo contemporaneamente a due fenomeni che sono diciamo le due facce della stessa medaglia alla massima espansione della democrazia nel mondo ricordo a tutti che la democrazia è nata in un paesello di 20.000 abitanti ad Atene paesello di 20.000 abitanti più piccolo di Rovereto oggi noi abbiamo la democrazia formale che è presente almeno nei tre quinti del mondo mai vista nella storia dell'umanità diciamo da quando la conosciamo un'espansione della democrazia come questa tanto è vero che siamo scandalizzati che la Cina non ha a fronte del massimo dell'espansione quantitativa noi stiamo assistendo abbiamo usato anche i carri armati capite noi per portare la democrazia la scusa è stata quella in Iraq giusto? stiamo assistendo alla consumazione delle forme che l'hanno fatta espandere cioè voto fiscalità e amministrazione pubblica queste sono le tre forme che dopo la rivoluzione francese diciamo sono diventate i tre riferimenti principali attraverso cui poi si incardinava sostanzialmente la statualità e attraverso cui si incardinava l'immaginario della partecipazione alla democrazia poiché poi la storia i suoi segni pensate alla Grecia dove è nata la democrazia sostanzialmente voi avete un sistema totalmente eterodiretto attualmente la Grecia a breve il rischio è tutto nostro che cosa vuol dire questo allora? vuol dire che la democrazia è finita? vuol dire che la politica è finita? ma io dico di no vuol dire però che bisogna generare nuove forme di cittadinanza democratica non basta più il voto traduco quando voi uscite dalla cabina elettorale a meno che avevate fortemente bevuto non siete particolarmente felici dell'azione che avete compiuto c'è un certo come dire uno lo fa per dovere lo fa per ma diciamo non è che lui dice oh ho partecipato al cambiamento del paese non capisci bene cos'è no? sei un po' lì e badate bene che tutto quel che riesci a immaginare l'attuale rappresentanza è cambiare all'interno sempre dello stesso schema il problema non è la legge elettorale il problema è che il voto non basta più ci siamo inventati anche le primarie ma siamo sempre lì dentro quel paradigma il voto arriva fino a un certo punto l'abbiamo esteso immaginiamo essi sedicenni ci abbiamo messo le donne ma il tema maggioranza minoranza voto no beh la storia del voto è stata interessantissima sto parlando con grandissimo rispetto di cose fondamentali è evidente che non basta più ma si vede non è che le prossime elezioni voterà il 90% no no noi ci stiamo riequilibrando ai dati americani è così è così ma la stessa cosa quando pagate le tasse io dico ah che bello adesso c'è stato tutto che bello pagare le tasse se no è brutto no il problema è che tu non sai bene cosa paghi perché paghi che cos'è quella roba lì e non è un problema di brutti sporchi cattivi ladri questi sono tutti elementi patologici io sto parlando di elementi fisiologici la stessa cosa all'amministrazione pubblica grande cosa per l'amor di Dio facciamo l'esempio di Roma dell'altro giorno è chiaro che in Italia gira troppo denaro intorno alla mediazione pubblica ed è un problema ma non di ladri è proprio un problema mi potrei far leggere cose di Don Sturzo o di Gramsci degli anni 20 perché l'Italia è un problema allora bisogna inventarsi formule nuove la democrazia ha bisogno di esperienze istituenti democratiche nuove c'entra con noi io addirittura ho preceduto e sono tuttora socio e faccio delle cose di una forma cooperativa che ha la democraticità come elemento costitutivo dell'impresa capite che poi quando uno fa il presidente 30 anni è un po' dura che ci sia la democraticità che magari poi va a contestare i politici perché stanno in Parlamento ma è la stessa cosa c'è un problema capite c'è un problema assemblee in teoria di 100 soci a cui partecipano 4 persone c'è un problema quindi il problema è profondo non è torno a dirlo bisogna inventarsi cose è un tempo così come l'economia ci chiede di inventarci forme nuove di generazione del valore la politica ci chiede di inventarci forme nuove di generazione della partecipazione ci siamo fino a qua quindi la crisi profonda adesso Renzi finirà poveretto finisce anche lui ma prossimo che viene siamo un'altra volta da capo il problema è profondo e non è italiano l'Italia poi ha un problema dentro l'Europa e l'Europa ha un problema dentro il mondo ma qui c'è andiamo al nocciolo per quello che parlo che non siamo in crisi siamo dentro un'altra cosa che non sappiamo ancora cosa è oh ma mi ha sempre entusiasmato le montagne che non conosco non depresso andiamo a scoprire muoviamoci tutti sono lì che aspettano la vecchia montagna la montagna è stata rasa al suolo non c'è più quella di prima il terzo ve lo dico sociologicamente ve lo dico così e mi è evidente guardando il mio tablet e pensando alla mia figlia lo racconto sempre così la mia figlia che è Marta che è in terza liceo è una delle mie quattro figli a 2500 amici su facebook in due anni no basterebbe questa affermazione qua c'è scritto amici eh l'esperienza che sta facendo mia figlia più rilevante dell'amicizia sono 2500 click su un tablet per me è una cosa sconosciuta al giorno di 52enne che già aver 10 forse una decina io 50 anni forse una decina di amici abbiamo la stessa parola connota un'esperienza relazionale di legame di che non giù io non mi sento di giudicare sono aggiudicante sospendo il giudizio è un altro mondo cosa voglio dirvi socialmente noi stiamo passando attraverso soprattutto le forme tecnologiche attraverso soprattutto le forme tecnologiche da una società che era rimasta prevalentemente verticale in particolare in Italia perché l'Italia ha la chiesa cattolica quindi il modello è gerarchico nell'inconscio collettivo di tutte le organizzazioni gerarchico è stabile e sempre in crescita quando sei vescovo non torni a fare il parroco poi fai il cardinale e fai il papa è la stessa cosa il problema che hanno i politici è esattamente perché copiano inconsciamente freudianamente quel modello lì infatti grande cosa che ci sia un papa che ci sia dimesso io sono convinto che sul lungo periodo produrrà delle cose buone non vado a uno specifico italiano noi avevamo comunque un'idea verticale la dico in termini relazionali con il mio papà la parola di mio papà Fermo Fermo si chiama Fermo mio papà è ancora vivo c'è un po' di problemi di Alzheimer adesso e per il Johnny era importante a priori a priori ok? al di là di quello che diceva per mia figlia Marta e fidatevi che sono un papà abbastanza bravo e non è così non è così ma questo vale sia per i miei figli di sangue che per i miei figli diciamo in affido mi accorgo cioè tu sei dentro una relazione che costantemente si deve ridire se non si ridice se non si narra se sono il papà ma chi se ne frega no quasi ormai mia figlia me lo vuole anche dire capito questo cosa dice è la domanda di fondo di una società che è diventata piatta e ripeto i sistemi tecnologici tendono a renderla costantemente piatta attenzione mentre i sistemi economici stanno fortemente verticalizzando grandissime aggregazioni grandissime diciamo multinazionali cioè pazzesca è il meccanismo cioè ma pensate che facebook adesso sui giornali viene presentato come il terzo stato al mondo non avete mai visto voi grafici dice la Cina un miliardo e 450 milioni l'India un miliardo e 200 facebook un miliardo e 0,50 questo è sta roba fischia e no guardate che mi raccomando i segni sono importanti i segni sono come i cani da tartufi i segni ci dicono un po' di cose soprattutto se avete a che fare con i ragazzini questi sono completamente immersi in questo mondo allora il tema è cos'è l'autorità in una società piatta in una società verticale il rapporto tra ruolo funzione e autorità aveva l'autorità trovava una forma in cui incardinarsi anche esplicitamente e anche in un gioco diciamo così delle parti aveva una sua sceneggiatura e non c'è stata piatta e non è così guardate che mi riguarda parlo di me voi siete molto più bravi di me che mi riguarda e cos'è l'autorità e guardate che autorità dal latino augere vuol dire aumentare far crescere è collegata alla questione economica senza autorità non ci sarà forma di crescita anche economica l'Italia è evidentemente orfana da tempo di una cosa così si è costruita questa specie di roba del presidente della repubblica a 95 anni ormai nel prossimo avrà 107 anni perché non si sono fuori dall'ordinario è certo che noi abbiamo provato di autorità evidentissimo il successo di Papa Francesco sostanzialmente perché la gente percepisce un'autorità uno che si sa dire e allora questo sociologicamente è un temone un temonissimo in questi legami piatti cos'è autorevole uso termini spero e parole ecco si potrebbe raccontare in tanti modi con voi voglio tenerla su questo punto qua e questo non riusciamo ancora a dirlo guardate che l'incancra nirsi ad esempio scusatela ma anche stamattina non ho sentito un'altra cosa sono tutti i suoi omicidi in famiglia guardate che noi stiamo raggiungendo livelli mai visti eh mai visti gli omicidi in famiglia hanno di gran lunga superato li chiamo omicidi in famiglia non femminicidi perché questa storia sono omicidi dentro le famiglie dentro sono dentro le coppie dentro le famiglie cioè troppe volte ci sono di mezzo i figli ci sono non è solo una cosa contro le donne no non è così mi prendo tutte le mie responsabilità siete tante donne incazzatevi dopo me lo direte no no c'è proprio un problema che si entra in uno stato di anomia depressiva dico io esplosiva totalmente esplosiva ed esattamente il punto è il legame eh dentro un format che non regge più che è l'appartamento che era molto funzionale all'idea del consumo perché è la stessa famiglia che andava col Carrelen all'Oreo Center capito tutti non si sa bene fa che dalla mattina alle nove alla sera alle cinque dalla Val Trompia scendevano all'Oreo Center minchia no ma che bello voglio dire una volta ma tu c'è chi che è proprio un rito è un vero rito come andare dalla Madonna come si andava dalle miei tempi alla Madonna di Caravaggio c'è una cosa dentro un appartamento di 70-80 metri quadrati mazza morire con questo mi collego al quarto punto l'altra grande crisi antropologica questa idea identificativa tra l'uomo e il suo io mi zica come se l'uomo fosse un individuo anche questo ormai era diventato un implicito il mio io il mio io a parte che sono diventato quasi buddista ormai non so neanche se l'io esiste ho dei serissimi dubbi anche dal punto di vista scientifico il mio io le questioni di prima sia quella economica che quella sociologica certamente si sono fondate su un'idea di un io che si espandeva sostanzialmente principio del piacere fare tante esperienze immaginare come dice la pubblicità che il mondo gira intorno a te cioè abbiamo fatto quelle robe che il mio amico Roby psicotico non si sarebbe neanche immaginato nei momenti più alti delle sue psicosi cioè da noi sono diventati l'idea di sé tuttora siamo immersi in questa roba il mio io il mio io ma se andrei a parlare di cos'è il mio io noi non siamo il nostro io l'esperienza fondamentale che noi facciamo costantemente nella vita è di essere un tu cosa avevo detto prima io marito papà se faccio l'educatore in alcuni momenti casomai sono tra il tuo e l'egli sono un egli no ma sono esperienze oh esperienze fisiche il nostro corpo fa quelle esperienze non quelle dell'io cosa fai sul cesso tu stai lì e dici ah il mio io il mio io cazzo è il tuo io eh no ma questa è invece la fantasia oh guardate che pubblicità la banca gira intorno a te il mondo gira intorno a te ma cosa cazzo stai dicendo e no ma guardate che tantissimi i nostri servizi sono montati così eh certi progetti individualizzati andrebbero bruciati nel falò delle streghe all'ultimo dell'anno eh allora la domanda è ma oltre il nostro io c'è qualche cosa visto che ci ha portato sta benedetta catastrofe totale probabilmente nel novecento la dico in senso buono così ci tiriamo era necessario eh dovevamo uscire diciamo da una fase rural contadina che aveva fatto del comunitarismo del dei rapporti parentali eh quindi c'era bisogno eh di andare in un appartamento separazione appartare Mandela eh contro l'apartheid qui nessuno ha mai fatto marce contro gli appartamenti c'è un bel problema eh eh no il giorno che gli educatori cominceranno a fare delle marce contro gli appartamenti in nome di Mandela volete portate anche il cartello di Mandela è lo stesso dramma eh appartai di appartamento hanno la stessa radice eh noi abbiamo bisogno di case invece no? case dove abitare se le famiglie avessero più case e meno appartamenti meno morti ci sarebbero sono sicuro non di leggi che tutelano i diritti individuali qui so che sono pesante sollevo io non credo ai diritti individuali i diritti o sono collettivi o non esistono l'idea del diritto individuale è una pura follia occidentale che ha sostenuto un'ideologia capitalistica del consumo e che il capitalismo sosterrà fortemente adesso che i diritti diventeranno sanitari perché il nuovo business previsto è esattamente quello del corpo della psiche del desiderio ed è tu che hai diritto a tutto di vivere fino a 150 anni ma no eh io non voglio vivere fino a 150 anni con la fantasia che la vita che si allungherà sarà anche bellissima no dopo 75 fidatevi del dotti è durissima è un grandissimo casino 2 o 3% della popolazione che ha vissuto in un certo modo e se sostanzialmente è stato molto ricco sta bene dopo i 75 anni generalmente avete qualche cazzo da curarvi e più andate là più è dura meno relazione avete più è dura ancora e questi mi prospettano adesso non so avete visto interviste recentemente e tutti i giornali che ormai hanno paginate sulla salute pompano su questo punto perché questo è il nuovo business eh questo qui è certo ve lo dico per certezza questo è il nuovo business il vostro corpo il vostro desiderio e lo vostro star bene e il vostro ma si fatti 7-8 matrimoni in una vita che te ne frega cioè il figlio lo vuoi rosso lo vuoi giallo lo vuoi blu lo vuoi giallino lo vuoi molto intelligente o un po' deficiente come lo vuoi oh guardate che sono battute un po' ma cioè tenete aperte le orecchie gli occhi e io non sono contro la ricerca scientifica e no però oh di che stiamo parlando di che persona stiamo parlando di che convivenza stiamo parlando di che società stiamo parlando di che potere stiamo parlando è chiaro che però se noi qua ci sta a cuore l'uomo non sappiamo dirci ma oltre l'io esiste qualche cosa e non troviamo risposte un po' fondate risposte su cui rendere conto risposte su cui disegnare dei percorsi collettivi comuni la realtà digitale porterà molto lontano da questo punto di vista io comincio a dire che dopo l'io dopo il tempo spregiudicato dell'io che è andato bene ripeto come l'adolescenza avevamo bisogno di ubriacarci un po' uscire di casa immaginare che la libertà era bere 62 mojito e tornare vomitando alle 4 di 9 beh adesso abbiamo vomitato tanto tanta sofferenza mai stato così uso di psicofarmaci nel mondo mai state così patologie alimentari mai state così tanto patologie di dipendenza da gioco terza industria italiana questo benedetto io terza industria italiana più di 100 miliardi di euro e non è un problema di legalità e non immaginate che vanno a giocare i ricchi vanno a giocare i giovani e vanno a giocare i vecchi che guarda caso si mangiano il patrimonio pater completamente slegati da qualsiasi forma di pater infatti si disfano i patrimoni e si disfano i matrimoni e badate bene sono per il divorzio per essere cattolico ma non è quello lì il punto è quanto si stressano questo tipo di situazioni portandole ad essere funzionali a un certo tipo di sistema c'è un problema sì c'è un'altra montagna per me anche questa cosa è saltata non regge più dentro la società non è una proposta che posso fare ai miei figli o alle persone a cui voglio bene questa quella del suo io ma vai a cagare te è il tuo io renditi responsabile del tuo tu del tuo essere un egli del tuo essere un noi del tuo essere un voi del tuo essere un essi renditi cosciente che nella lingua latina italiana nei tre quarti delle lingue del mondo ci sono tre persone singolari e tre persone plurali come minimo sei sei non prima persona singolare come minimo sei sei poi va bene tieniti anche il tuo io ma per piacere gli altri cinque prendili in considerazione come elementi di identità uso un'altra parola identità non come diciamo vestiti da mettersi dentro la scena no no come elementi antropologici perché una persona è un nodo di relazione e solo se è un nodo di relazione è un individuo se non è un nodo di relazione non è neanche un individuo potremmo collegarci a tanti lavori fatti dalla biologia dalla fisica non mi interessa diciamo fare il finto rudito voglio parlare di realtà e questa parte è stata completamente abbandonata questo vuol dire cancellare l'unicità delle persone no no vuol dire esattamente riconoscerla non è unicità assoluta assoluta sciolta da tutto è un'unicità in relazione in modo ontologico autonomico aggiungerei guardate che anche questo ha a che fare con le questioni che raccontavo prima di politica e di economia voi dite beh mi hai sparato tutte queste cose a noi educatori allora ci sono è come dire non faccio il ragionamento sul modello italiano perché sono convinto che dietro a queste cose ci sarebbe un modello italiano che non è questo non è questo del valore inteso come massimizzazione del denaro non è quello della politica intesa solo come amministrazione pubblica voto e fiscalità distributiva non è quello soltanto che prevedeva diciamo un verticale senza un orizzontale il modello italiano che abbiamo completamente abbandonato dopo l'unità d'Italia quindi abbandonato da mo da un bel po' di tempo che resta sotto la società un po' bollire ma non diventa mai politica nel senso alto per me è un ragionamento che andrebbe fatto anche in termini educativi pedagogici ma non sto a farlo qua magari il prossimo film ma no mi interessa un risvolto immediato rispetto al titolo questo cosa c'entra con educatore promotore la dico in modo molto hard se oggi un educatore non è promotore non è un professionista non è un professionista casomai è schiavo di un sistema ma non professa la sua fede professionista è profide ora cioè non educe nulla è funzionale un sistemetto più o meno bello più o meno è funzionale un sistema è un pezzo di un sistema punto punto faccio degli esempi molto concreti disabili chi si interessa dei disabili e non ha ben presente che ormai i disabili vivono oltre i 40 anni e che questo è un punto fondamentale per qualsiasi tipo di immaginario educativo che si deve avere sui ragazzi e beh ha qualche problema per me può gestire anche un CSE una comunità alloggio un centro educativo le vacanze la onanoterapia le papere terapia ma se non ha presente quel punto lì che quello vivrà oltre i suoi genitori è meglio che cambi lavoro quello lì è il suo punto principale quello lì è il punto su cui deve fondare la sua azione educativa il resto viene dopo il resto sono tecniche strumenti opportunità situazioni cioè io vedo scrivere dei progetti individuali di ragazzi disabili che giuro non sarebbero neanche ma neanche il fuoco li accoglierebbe si incazza anche fratello fuoco mi state capendo o no? allora questo cambia la vita cambia la vita genera un altro sistema economico genera un altro sistema economico allora quando è che gli educatori vanno a parlare con i genitori del patrimonio che questi genitori hanno messo via per i figli quando è questo diventa un punto del progetto educativo? mai paura eh? meglio consigliargli una psicoterapia per elaborare il lutto ma andate a cagare il lutto della perdita del figlio che perderà il figlio allora è angosciata e lo mandano alla psicoterapia ma sei strozzo due volte no sei un capitalista di merda consumo consumo di servizi morfina pura capite? droga no il tuo punto è fare un percorso con quei genitori insieme ad altri e parliamo dei 200 mila euro che hai messo sotto il materasso che hai messo in un'assicurazione sulla vita perché vuoi sortire da sola di quel punto non possiamo sortirne assieme Don Milani guardate ci saranno 7-8 miliardi da muovere in Italia lì è un punto serio eh? è un punto serio no combattiamo perché il trasporto sia gratis ai intelligenti bravi bravi perché li paghiamo gratis anche le vacanze perché dal metico vanno gratis droga capite? tutta droga diritti individuali stronzi ma tu davvero hai preso a cuore quel ragazzino lì? l'hai preso davvero a cuore? cosa stai facendo quando fai quelle cose lì? che narrazione di te dei tuoi valori della sua storia stai facendo? cosa stai facendo? sei sicuro che continuando a fargli mettere insieme le perline la vita vada bene? o il vimini il midollino o quei quadri obrobliosi che poi si vendono fuori dalla parrocchia una schifezza veramente scandalosa non vado più avanti sui disabili perché sennò direi cose molto cattive c'è molto da fare minori parliamo di minori? credo che poi mi cacciate definitivamente ma siete sicuri che bisogna continuare a tenere lì nelle comunità? siete così sicuri? siete così sicuri? certi che quello lì è il bene che bisogna combattere perché la retta resti sostanzialmente tra gli 80 e i 100 euro quello lì è il diritto quello lì è il punto perché noi siamo professionisti e lì si crea un clima certamente positivo e tutto andrà bene e la vita è bella siete sicuri? io no si può fare solo quello oh grande invenzione furono eh le comunità alloggio quando abbiamo lottato e mi dicevano giovani che si cominciava si cominciava un po' prima allora verso i 14-15 anni ci si dava da fare non si aspettavano i 27 o 28 poi tornerò su questo punto follia pura tanti cresci degli acefali totali quando li abbiamo tirati fuori degli orfanatrofi abbiamo fatto una grande cosa faccio l'esempio ma siamo sicuri che quello che abbiamo fatto 40 anni fa oggi sia l'unica cosa che vada fatta in una situazione demografica come quella in cui ci troviamo in una situazione di socializzazione come quella in cui ci troviamo io qualche domanda me la farei non ho tutte le risposte ho le mie piccole cose insieme ad altri però quando io vedo vabbè andiamo lontano da qua vedo che a Napoli l'unica cosa che i miei amici del terzo settore fanno è protestare col comune perché non gli paga le rette delle comunità alloggio da un anno e mezzo e io sono triste stronzo è il comune che non gli paga le rette delle comunità alloggio da un anno e mezzo bastardo tutto quel che vuole o sono andato anch'io a combattere e ma bisogna anche fare qualcosa da altri figli avete mai seguito ogni tanto il circuito che ormai fanno molti ragazzini dentro i servizi sociali che è completamente perverso che ha un uso costante dei servizi e un consumo costante dei servizi fate mai conti a distanza di vent'anni di questa cosa ma non so di quanto costa cosa che ogni tanto verrebbe la pena dice ma ho speso un milione e mezzo per quella minchia minchia potevo spendere anche tre non è quello punto ma lì che cosa è venuto fuori io vedo dei percorsi esempio mamma bambino in particolare quando ci sono immigrate che mi vengono i brividi ma avete capito che molti ormai la usano come la giostra e vanno incinte esattamente al momento che dovrebbero essere mandate fuori così si ritorna a fare il film e qui andrebbe usato poco pietismo e molto bene molta realtà di bene possiamo pensare ad altro sì possiamo promuovere qualcosa ad altro sì possiamo essere un po' più rivoluzionari sugli affidi e immaginare dei rapporti diversi tra professione e disponibilità delle famiglie possiamo riragionare con tutto sta pletora di pensionati che non fa un cazzo tutto il giorno e ce ne avremo davanti a sei prossimi trent'anni milioni io spero di esserci ma non so ancora se ce la farò e ripensare forme tra generazioni diverse allora dovevamo uscire uscire dagli orfanatrofi ma guardate che non è che se voi avete una casa più piccola di duecento metri quadrati siete usciti dall'istituzionalizzazione non è la grandezza dell'istituto che fa la funzione istituzionalizzata un po' più vita un po' più di vita vita relazioni vitali vado verso la conclusione perché già credo di essere stato provo a farvi degli esempi concreti sulla cura e questo tocca l'aspetto se volete più socio-sanitario più legato anche a chi non soltanto alle generazioni giovani ma ormai c'è un tema che riguarda la cura che non è solo assistenza di pezzi interi generazione badate bene altro dato strutturale che vi riguarda noi tra dieci anni ci troveremo con gli over 65 che supereranno gli under 25 e questo sarà un dato strutturale mai visto in diecimila anni in storia umana in Italia solo vicino ad alcune guerre per un brevissimi periodi poteva succedere questa cosa è certo è certo mio figlio piccolo non ci avrà solo il papà ci avrà il nonno e ci avrà il bisnonno mio figlio piccolo che smacchina tutto il giorno con l'iPad e non sa cos'è una relazione affettiva e cosa sia una responsabilità ma so che cosa ci succederà io avrei dei serissimi dubbi che tipo di convivenza ci aspetta potrebbe essere anche fantastica il ruolo della saggezza far nascere bisogna lavorarci se non ci si lavora da soli non so in che supermercato finiremo secondo me sarà a forma di ospedale infatti molti ospedali sottolineano i supermercati faccio solo notare questi aspetti qua notateli che non sono per nulla banali non è che la frontiera è il consumo il grande capitale è l'abbandonata la sta riciclando con delle parole chiave che sono tra l'altro le nostre coproduzione creazione del valore condiviso cooperazione arrivano da Londra ormai vado a far cercare qualche seminario ogni tanto ma è comico noi qui in Italia siamo un po' persi nel nulla siamo lì a combattere per due centesimi per l'assistenza domiciliare siamo matti cioè noi di fronte a una situazione sbilanciata così e cosa facciamo? questo riguarda se chi lavora con gli under 25 ma anche su chi sta lavorando con gli over 65 oppure sta già lavorando promotore con i quarantenni e i cinquantenni perché insieme si generi qualcosa di nuovo per affrontare un tema così allora la mia grande proposta è servono esperienze istituenti su nuove forme dell'abitare quella è la questione politica strutturale non case fanfani o case popolari non affitto a basso prezzo in appartamenti assurdi che si riempiono di sfiga no c'è un punto che riguarda la convivialità e la società e sono le forme dell'abitare grandissimo spazio educativo questo ripeto e non pensate subito alla biotecnologia al mattoncino le forme dell'abitare come tipicamente umane la domanda è che cosa c'è oltre gli appartamenti visto che bisogna andare oltre gli appartamenti noi non reggeremo la non autosufficienza se rimaniamo nell'ideologia degli appartamenti ormai non bastano più le cose le RSA le case di riposo le S non so come si chiamano qui poi tutti l'anchione no a forme dell'abitare questo è bellissimo grandi percorsi educativi di ricerca comune su queste cose ci sono già delle esperienze interessanti in giro intanto si possono usare immobili a tutto spiano in Italia perché c'è un surplus di immobili privati un surplus di immobili religiosi un surplus di immobili pubblici tranquilli le case ci sono non c'è un cazzo di idea quello è un grande spazio collegato alle cose che vi ho detto sui minori e alle cose che vi ho detto sui ma non per fare la comunità alloggio per i minori mi raccomando oppure non solo quella mi odiate definitivamente no forme dell'abitare capito? dove tenete quel fondo lì noi andiamo nei prossimi 30 anni ad avere questa società che ha queste polarizzazioni quindi voi siete gli artefici di una forma di una creazione di una forma nuova perché questo assetto della società non c'è mai stato o tra l'altro i dati l'altro ieri avete visto l'Istat che l'immigrazione sta per arrivare a superare l'immigrazione se va anche così toccatevi già le nostre pensioni è finito fin totalmente io avevo qualche speranza qui i 50 anni se non abbiamo più immigrati non c'è più niente da fare a noi ormai le pensioni sono andate tutte no ma pensate lo sbilancio perché vanno via i giovani gli under 35 85.000 quest'anno e abbiamo avuto 130.000 entrate quindi si sta avvicinando moltissimo questa forbice anche gli immigrati no ma ecco mi raccomando quando vi parlavo della sensibilità sul conto queste sono sensibilità educative per me poi certo che ogni tanto anch'io faccio il micro psicologo a cui ci riduciamo tutti sì la relazione tra me e la mia figlia sì se anche quella roba lì la perlina va bene quelle robe in cui ci siamo un po' parlati tutti addosso sì sì un decimo un capitolo su un'enciclopedia questa questione dell'abitare forme di convivenza la seconda la dico in modo un po' forte ma vabbè credo che Dario lo sapeva quindi allora la mia tesi è che bisogna riconnettere l'esperienza lavorativa all'esperienza educativa vuol dire che i ragazzini a 14 anni vanno riportati al lavoro in particolare in Italia è stata una follia separare il percorso scolastico cognitivo astratto dal percorso lavorativo materiale concreto perché l'Italia che si connota molto di locale genio sloci si connette all'universale non solo attraverso le operazioni astratte ma attraverso relazioni concrete so che sono a rischio di arresto ma io spero che qualcuno prima o poi venga arrestato per cose buone non solo perché è un ladro noi abbiamo una legislazione completamente sbagliata da questo punto di vista perché la fantasia che è venuta in là è che al lavoro ci vanno gli sfigatelli che non sanno bene cosa fare o quelli delle valli che poi si alcolizzano al sabato quelli bravi fanno il liceo classico ora pensate a quello sbilanciamento che vi dicevo prima al punto di vista della società se noi le nuove generazioni e ci metto anche i disabili per quello che mi riguardano le nuove generazioni non le riconnettiamo al principio delle realtà e li lasciamo solo collegati alle realtà digitale che ormai è una realtà non è virtuale la realtà digitale è una realtà poi bisognerebbe anche riuscire a contenerla un po' adesso sento dire che bisogna avvicinare già a due mesi un bambino all'iPad cioè mi viene il brividone capito cioè si attacca la tetta così con la mucca carolina che fa mu 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 no io vado in giro tanto con la macchina adesso sento queste teorie anche di pedagogisti che è la realtà digitale nei primi mesi di vita bisogna io cazzo tremo o lo uso ai miei figli adesso lo uso ma bisogna la domanda è tu compensi cosa compensi con le mani cosa compensi con l'odore cosa compensi col pisello cosa compensi col tatto cosa compensi con l'udito cosa compensi con la vista cosa compensi nell'esperienza adulta reale e no eh se no tienilo lontano fino ai 13 anni eh perché questo è principio del piacere eh e basta bella cosa io non sono freudianamente così anale da dire che cosa per forza cattiva che bisogna no no bella roba il piacere però occhio che non sai più neanche cos'è il piacere se non hai altro per dire cosa non è non piacere e quindi per me questa è una proposta educativa accanto ai percorsi scolastici vanno pensati strutturalmente dei percorsi lavorativi che recuperano non i posti di lavoro il senso del lavoro diciamo riprendendo in modo nobile lo scritto dell'Arendt sul lavoro operazione eh lavoro connotandolo diciamo da costituzione italiana non solo salario e guardate che quell'esperienza lì in tutte le civiltà umane si fa alla fine della preadolescenza eh quell'imprinting lì ce l'hai esattamente lì infatti il sapere popolare povero ignorante ma con una sua saggezza e qui chi ha oltre 40 anni credo che mi capisce intuitativamente ti faceva fare delle cose dalla zia dalla nonna dal fratello dal vicino dal nipote da quello che avevi conosciuto in una baita non so qui da voi come funzionava io ho fatto il meccanico ad esempio e scaricavo i cocomeri e pitturavo le ringhiere per mio padre o se lo fai oggi telefono la telefono azzurro eh capite e abbiamo partecipato anche noi né belli a questo porno film che destina all'anomia questo essere contro la scuola no è riconoscere i limiti dell'apprendimento in un setting di natura rigida come la scuola c'è molto da fare si possono fare diecimila cose cominciate ad aprire un'impresa sociale con i minorenni al poveriggio nelle scuole la scuola può stare aperta 20 ore al giorno e lo sapete ma lavoriamoci facciamo delle belle manifestazioni non va bene la scuola apritelo negli oratori con chi trovate un'alleanza pazzesca con le famiglie ve lo dico io quando parlate di queste cose badate bene che questa è una forma di democrazia questa è una forma di economia questa è una modalità per interpretare la società piatta e immaginare che dentro l'orizzontale esista un valore anche quella dell'abitare è la stessa cosa potete generare la più grande immobiliare italiana con i frati Capucini se avete qualche idea qualche idea serve però perché i frati Capucini si estinguono state serene e hanno un patrimonio immobiliare pazzesco no ve lo dico perché io ci sto lavorando a dieci anni con gli ordini di gioco ci ho fatto anche due fondazioni e abbiamo già fatto grandi cose le cose che vi ho detto per me sono operative esistono già se mi pagate molto vi potrei fare ancora una piccola consulenza perché io non mi fido tanto in questo momento dei miei simili del terzo settore trovo molto più interessante lavorare con gli idraulici le parrucchiere gli elettricisti molto più stimolante gli architetti da noi si parla una specie di linguaggio che non capisce un cazzo di nessuno cioè poca vita c'è terzo ve lo dico non come ambito ve ne ho dati due quello lavorativo cioè quello della cura legato all'abitare e quello lavorativo riconnesso all'educativo o quando ci siamo inventati le cooperative di solidarietà sociale è la stessa roba eravamo fuori legge non vi faccio discorso sul servizio civile perché l'ho fatto altrove ma per me rientra rientra nella stessa area allora per me il servizio civile qui mi dispiace che trovi le più grandi difficoltà con i miei amici del terzo settore non è un finto lavoro è un rito iniziatico di natura donativa ed è una cosa che deve scegliere la comunità degli adulti rispetto al modello di società che ha in mente non è faccio far qualcosina al mio ragazzino no siccome tutte le società sane sane hanno un rito esplicito noi li abbiamo tutti rimossi perché siamo malati in nome di quell'io famoso che si doveva generare non so che tipo di cose e infatti i ragazzini si rigenerano i loro riti trasgressivi non so nella bergamasca ve ne posso citare due o tre sui giornali poi vanno ogni tanto le pietre andare al contrario col motorino andare sulla piedi ma certo è un bisogno esistenziale antropologico rito iniziatico e gli adulti sono stronzi se abiticano a questo punto devono decidere iniziatico a che e questo è un tema politico io sostengo che i nostri mondi devono iniziare al dono perché il dono è un valore di generatività nelle società non c'entra con l'etica e la bontà c'entra col mantenere aperte le società e il dono è un tema laico per me però anche qui anche qui non è un problema di quanti soldi gli do no se è chiaro il punto di inizio la questione del denaro deve essere diciamo proporzionale a questa questione di fondo e secondo dato c'è un problema di soggettività adesso qui mi cacciate definitivamente io non credo che questa cosa sta in capo allo Stato questa cosa sta in capo alle comunità locali lo Stato deve garantirne l'accessibilità e al massimo l'assicurazione sulla vita ma poi il meccanismo di raccolta di risorse di costruzione di senso perché appunto bisogna alimentare i legami no? le prestazioni astratte e i servizi astratti sta in capo la comunità che fa anche il suo bel fundraising possibile che la mia cooperativa non sia in grado di tirare su 2.000 euro per il 18enne e fargli fare un'esperienza di un anno a quel 18enne ma non ci credo il problema del terzo settore è che non è in grado di raccogliere 2.000 euro per un anno per un ragazzino perché io penso 150 euro e non di più al mese quel che serve per uscire con la morosa ogni tanto e pagarsi la benzina per andare a casa punto se è un'esperienza donativa torno al mio principio di inizio e poi io sono perché la mia cooperativa gli faccio fare anche un'esperienza all'estero fa 6 mesi qua e 6 mesi all'estero o decidiamo 3 mesi 3 mesi facciamo i variabili ma il punto per me è quello lì è quello del rito iniziato e torno al punto di prima principio di realtà legame cioè non è possibile che mi si dice che non si fa questo in nome della libertà ecco disponibile ad un quelle robe medievali dove si discuteva in notte intere a discutere che la libertà non c'entra un cazzo con questa roba qua anzi questa è un'azione di libertà perché è un'azione di presa in carico responsabile di un rapporto con la realtà è una proposta responsabile a cui dopo tu risponderai come vorrai è quella costruzione di legame di autorità dentro un legame che dicevo prima fino anche a combatterla magari usciranno gli obiettori di coscienza del servizio civile benissimo ottimo grande azione di libertà non facciamo nulla perché rispetto la libertà individuale ma cosa stai mi cosa mi stai guardate che questo è un film è certo certo che c'è un obiettore totale magari un'altra volta so che a Dario sta e sono contento che a Trentino almeno un po' botta avete tenuto però fa fatica è una fatica pazzesca ma perché ci sono degli imbrogli culturali secondo me voi pensate come cambierebbe la vita se ogni anno tutti i diciottenni fanno una cosa così o anche la vostra la sollecitazione alla vostra professionalità perché l'altra cosa è tolgono il posto di lavoro ma non costate con il casino che abbiamo ma che posto di lavoro tolgono l'ultima ve la dico così un po' più teorica uscite dallo specialismo allora anche qui non voglio essere iconoclasta è evidente che gli ultimi 60 anni noi abbiamo avuto un certo tipo di espansione di società e di economia che si è fondata sulla massimizzazione degli specialismi ci siamo entrati anche noi l'avete capito non è che noi eravamo avulsi da quello schema ecco quello schema lì secondo me è finito oggi in quel che almeno mi sembra di intravedere è che appunto il grande capitale secondo me ha già intravisto il rischio che lo massimizzi come fa di solito quando è bravo a cogliere l'abbrivio di quello che viene su oggi è richiesta la connessione tra diversi strutturale però cioè la consapevolezza della propria insufficienza io vi dico di andare oltre lo specialismo non di negare il vostro sapere di negare il vostro punto di cura cognitiva o di o di cose ma di sapere costantemente che siete deficienti mancanti capite e che strutturalmente avete bisogno dell'altro e dell'altro altro non dell'altro simile non dell'altro educatore non dell'altro assistente sociale no no dell'idraulico giù dell'idraulico le idee più belle che mi sono venute in ultimi tre anni sull'assistenza domiciliare agli anziani vengono dal mio rapporto con le estetiste e le parrucchiere ma voi ridete perché se loro vogliono reggere la concorrenza alle cinesi devono ripensare radicalmente il loro lavoro il loro punto di forza è il dialetto e loro sono legittimati ad entrare in casa degli anziani e mentre vanno in casa e gli fanno i capelli fanno una signora assistenza domiciliare economia sì ho paura a chiamarla così no interesse sì ma anche dono anche in relazione e sapete io cosa ci ho messo dietro alla parrucchiera il dentista a domicilio poi arrivi in fondo che non basta più e vi ripeto immaginare forme dell'abitare più larghe eh ma se stavo lì cosa facevo con l'assistenza domiciliare super specializzata che poverina con sto cazzo di motorino non si confondiamo anche i nomi cioè quando ormai abbiamo un milione di badanti nelle case degli anziani ed è chiaro che c'è un tema strutturale di tenuta di reti allora sposti l'assistenza domiciliare diventare l'animatrice di quel quartiere lì non vai in casa non andarci neanche in casa vai in casa del vicino si capisce esci dalla tua idea super individuale che poveretta cioè muori tra l'altro la cooperativa dietro deve combattere per avere due centesimi di meno e intanto le badanti fatturano 13, 14, 15 miliardi all'anno tre volte di più di tutta la cooperazione sociale italiana in dieci anni e nessuno si è accorto perché era concentrato sui centesimi dell'assistenza domiciliare ma te sei scemo nessuno ha messo insieme le badanti adesso potrei andare fuori dagli specialismi se volete onorare la vostra gli anziani qua volete onorare gli anziani quelli che hanno messo su per cui esistete anche voi e volete onorare voi stessi uscite dal vostro specialismo innamoratevi degli altri fine grazie grazie Johnny allora abbiamo sentito un uomo innamorato e che mi sembra di capire almeno a me ha suscitato ha provocato e mi sta muovendo e quindi penso che sta capitando così anche a voi certamente e poi dopo faremo un lavoro di gruppo per cui avrete la possibilità di sedimentare un pochino e anche reagire a queste provocazioni in maniera un pochino più ragionata e con un po' di tempo però insomma approfitterei adesso del fatto che abbiamo qui Johnny per eventualmente ecco fare qualche domanda o reagire o anche per chi ha coraggio addirittura di opporsi no noi siamo in un contesto accademico e questa lexio magistralis condita di colori espressioni colorite però è un lexio magistralis per noi che ci occupiamo di educazione professionale e non di la reazione di una parte del corpo uno stimolo esterno fatto da un macchinario eccetera eccetera ok quindi ci occupiamo di una materia che è generalista come la pedagogia come l'educazione perché ha la prospettiva di occuparsi di tutte le situazioni di difficoltà di tutte le età da zero alla morte e quindi ha nel suo DNA proprio l'antispecialismo quindi in qualche maniera chi si sente inferiore ad altre professionalità vuole reagire all'antispecialismo specializzandosi fino all'ultimo dettaglio e Johnny ci sta richiamando forse al pericolo al pericolo di voler dimostrare legittimare una professione che ha una sua debolezza evidentemente rispetto ad altre medico psicologo no l'assistente sociale anche con la quale collaboriamo volentieri tutti i giorni ma ecco quindi attenzioni quindi ci sono delle attenzioni ci sono delle provocazioni sono uscite delle inquietudini e forse anche forse qualche anticipazione di quello che avverrà tra vent'anni forse vorremmo una sociologia in grado a volte di leggere la realtà una realtà non solo fotografare quello che è successo ma che ci aiuti a preparare nel futuro no ecco e credo che l'intervento di giorni oggi un po' almeno ci stimola a guardare a quello che sarà i prossimi anni e quindi a tentare una ricollocazione della professionalità e dell'identità anche professionale dell'educatore tutto questo per darvi il tempo anche di elaborare una domanda una richiesta di chiarimento o esprimere anche semplicemente un sentimento semplicemente un stato d'animo no non dobbiamo fare il domandone possiamo una contrarietà possiamo anche esprimere uno stato d'animo di un certo tipo e questo aiuta a guardare le cose da punti di vista diversi poi lui ha questo modo anche maschio no di dire le cose ma è un caro ragazzo quindi appunto quindi anche abbiamo quali studenti di terzo anno ho visto educatori esperti di varie zone del Trentino sia nel pubblico che nel privato abbiamo un gruppo di quattro educatori straordinari della città di Bolzano e insomma non siamo tantissimi però questo forse ci aiuta anche a essere più spontanei prego nostra studentessa 150 ore lì dietro con il gelatino pronta in piedi come un militare a accompagnare a portarvi il microfono approfittate signori venghino venghino buongiorno sono Diego Giacometti sono tutor di tirocinio qui presso il corso di laurea di educazione professionale e grazie delle provocazioni delle bombe direi arrivate e alcune passaggi riflessione beh la prima è che collego il tipo di riflessione anche rispetto al lavoro che stiamo facendo quindi mi prendo un po' di parte di lavoro di tutor nel senso che ricollo con questo modo di leggere la società su diversi piani economico antropologico sociologico all'interno di un sistema di competenze che noi abbiamo che dice beh l'educatore deve essere capace di leggere il contesto che vive per cui no quell'espressione cani da tartufo capire i segnali questi segnali no non oltre a quelli pedagogici più forse propri nostri è comunque nostro lavoro stare in rete con non professionisti o non nel nostro mondo io credo sia la nostra specialità ecco per cui non mi piace tanto se posso dire che non dobbiamo essere specialisti ma nel senso che questa è la nostra specialità specialità per noi in Trentino in Alto Adige è una parola importante ma intesa proprio in questi termini qui cioè cos'è che ci contraddistingue per cui ci permette di essere professionisti diversi dagli altri io credo che questo è la nostra specialità riuscire a comunicare e relazionarsi e generare perché la parola generazione è emersa tanto credo nel suo intervento è il nostro lavoro quindi noi dobbiamo essere professionisti forse usiamo così ce la caviamo in questo senso qui di questa era la prima parte l'altra parte che volevo condividere è che mi sembra che un po' quello che emerge sotto forse è un tema mio nostro non so è quello della simmetria asimmetria non asimmetria cioè in tutte le cose proposte mi sembra che ci sia e qui forse c'è molto di mio c'è molto un paterno in certi punti è stato esplicitato cioè qualcuno che è in grado di fare una proposta che si assume la responsabilità di fare una proposta e credo che questo sia uno dei problemi che abbiamo sia in termini di formazione sia in termini di sociale in generale forse proprio come si diceva prima nel nome del rispetto della libertà altrui nel nome del del valorizzare la persona quindi penso anche come dire di un sistema buono nelle origini io credo che ci sia stato anche da noi un appiattimento nelle relazioni in termini proprio di responsabilità e la responsabilità passaggio successivo comprende anche la capacità di dire di sì e di accettare i sì o di accettare anche i no dell'altro nel senso che noi facciamo proposte ma in qualche modo non so se le accettiamo i sì o i no insomma o se sono proposte o se sono non so e quindi volevo un po' riprendere questo tema un po' della simmetria collegata al tema della responsabilità e forse dell'autorità che erano già emersi come elemento grazie ok grazie ma io ho tre punti rapidissimi sono Stefano Stefano Petrolini lavoro in ambito comunitario non sono educatore professionale non so se sono bene o male alcuni strumenti effettivamente mi mancano questo potrebbe essere oggetto anche di ulteriore riflessione io a parte la difficoltà di intervenire dopo dotti che è sempre un problema ho tre punti velocissimi la prima è rispetto al cambiamento che comunque abbiamo già vissuto nel senso che la crisi è finita appunto non sappiamo dove siamo è che dal punto di vista pratico uno dei macini che in qualche misura come operatore mi trovo a dover sopportare su cui non riesco onestamente a lavorare per spostarli ad esempio è la difficoltà a far passare questi concetti all'interno delle organizzazioni cioè ci sono delle posizioni di potere consolidate che sono come dire da questo punto di vista inamovibili sono proprio dei macini io per esempio lavoro in una cooperativa di Trento in cui il ridicolo presidente l'unica seria riforma che è stata fatta all'interno di un percorso di organizzazione piuttosto di facciata è stata quella di togliere il vincolo dei mandati prima cosa punto uno e punto due non c'era comunque poi rimaneva solo quello ovviamente in assemblea votata a grande maggioranza perché ovviamente come dire le relazioni di potere che chi occupa posizione di potere intrattiene sono suadenti sono come dire incoraggiano il pensiero che tutto sommato senza che queste relazioni di potere non si riesca a fare più nulla la seconda questione è relativa al rapporto che oggi esiste tra come dire chi eroga servizi chi lavora per sviluppare per erogare servizi e chi fondamentalmente paga il committente che non è mai poi il destinatario finale o quasi mai quindi il problema è quello di capire come dire anche all'interno di questo rapporto che è un rapporto anche in questo caso di potere sbilanciato come dire portare l'attenzione su quello che normalmente viene chiamato il processo perché obiettivamente l'unica cosa che ti dico io voglio risultati sì ma ho capito ma che facciamo insomma su questo questo versante quali sono i significati di questi risultati adesso non lo sai adesso non ne vuole parlare fondamentalmente la terza questione riguarda un problema di più di ordine più generale ma che come dire viviamo costantemente cioè oggi si come dire io credo giustamente questa non so forse è una riflessione non perfettamente corretta insomma però come dire non si può come dire produrre come dire cioè intervenire sugli ultimi senza pensare ai penultimi ai terzultimi cioè nel senso che proprio non ci si sta ci rimane ci si rimane sotto sia anche economicamente obiettivamente adesso al di là di tutto qualche soldo uno a casa al di là del dono deve portarselo pure a casa per vivere ecco e quindi come dire si parla appunto di committenza privata di spostare l'attenzione il focus dal rapporto con l'ente pubblico che è stato il come dire il principale pagatore fino a questo punto sul privato e non si discute però di che tipo di welfare vogliamo perché come dire se il privato diventa il privato io erogo servizi perché si li può permettere ma fondamentalmente dove sta il nesso cioè nel senso che la questione è stiamo andando verso una big society cioè il Bill Gates di turno che come dire eroga soldi in relazione alle proprie preferenze al fatto che uno è simpatico più o meno simpatico al fatto che una cosa sia più visibile piuttosto che un'altra che magari sarebbe più meritoria ma è meno visibile cioè ecco io non so come dire quale sia il punto qual è sia la soglia oltre la quale dobbiamo cominciare a preoccuparci però sicuramente il fatto che verso questa soglia noi ci stiamo dirigendo e questo come dire rimane sotto traccia nessuno se ne vuole occupare di questo tema ed è un problema che poi alla fin fine anche all'interno dell'organizzazione ritorna appunto il primo punto tutto sommato rimane lì in sospeso e sarebbe come dire invece un punto di partenza su come cominciare a ragionare grazie grazie ora qui davanti si sente? ciao a tutti buongiorno sono Lino Guidolin e collaboro qui con l'università per la formazione degli educatori allora intanto grazie per le provocazioni avrei bisogno di un caffè a quest'ora con tutto quello che ci è stato detto faccio in breve parto da una arrivo anzi meglio subito a una a una provocazione che sento forte cioè al dunque tutto questo fa secondo me politica perché una visione di questo genere non porta che a prendere decisioni e metodi di lavoro che portano quindi alla politica e un nesso intanto che prendevo nota di tutte queste provocazioni pensando a un laboratorio a un workshop con Ennio qui presente di gennaio di quest'anno almeno se non ricordo male massa critica chi crede a tutte queste cose te e io e chi altro per fare appunto politica perché tutto questo diventi decisione diventi modalità di governo perché poi i consumi se sono da 50 60 anni che la nostra società funziona così chi è che cambierà questo indirizzo e di conseguenza anche le politiche del welfare grazie un'altra ecco qua arriva dal servizio pubblico io sono Alessandro Dell'Ai sono un educatore professionale del comune di Trento mi occupo di lavoro di comunità di sviluppo di comunità e sono collaboro anch'io con per un piccolo piccolo piccola parte nel corso di educatori la prima cosa che mi viene in mente è che mi identifico in pieno rispetto a tutte le provocazioni fatte e dall'altra parte però tutto questo questo ragionamento mi porta a aumentare il mio senso di frustrazione perché mi verrebbe da sintetizzare questo senso di frustrazione nel concetto di resistenza cioè io mi sento anche perché appartengo al pubblico schiacciato tra la questa visione che ripeto condivido in pieno questa necessità di uscire dal binomio denaro prestazione e entrare nel binomio relazione e sussidiarietà anche in questo però questa questa visione anche prima Guido diceva la massa critica questa visione chi ce l'ha nell'ente pubblico pochi e nell'ente pubblico almeno dal mio punto di vista si fa fatica gli operatori fanno fatica ad uscire dalla dimensione professionalista e entrare in una dimensione più politica politica in senso ampio dall'altra parte come operatore di ente pubblico io sono anche dentro in un'organizzazione che ha la funzione pubblica che ha la politica quella anche partitica che in qualche modo può bloccare o infatizzare dall'altro punto di vista dei processi di cambiamento ecco io sono molto legato alla definizione che l'educatore professionale è agente di cambiamento come dice Duccio Demetrio la frustrazione il la la l'atteggiamento di resistenza però mi porta anche a dire se io sono educatore professionale e sono agente di cambiamento e non riesco ad incidere per quello che posso nella cultura e nella nel cambiamento della mia organizzazione sono ancora un educatore faccio ancora una funzione educativa a maggior ragione questa domanda nel momento in cui io insieme ad altri colleghi non non ci occupiamo di progetti educativi individualizzati ma ci occupiamo di promuovere processi partecipativi e di sviluppo di comunità quindi non abbiamo l'utenza classica e quindi un punto di domanda anche sull'identità professionale ecco mi fermo qua grazie io sono Filippo Camin studente educatore e all'ultimo al terzo e anch'io sono d'accordo con tutto quello che ha detto fuorché le cose che non ho capito e però anch'io mi permette eh no no non ho capito e anch'io però mi permette di sentire se è possibile sulla non essere specialisti come diceva Diego Giacometti nel senso che se dobbiamo dispecializzarci e qui provoco io allora non serviva il triennale di laurea no e i 1200 euro di tasse annuali però e forse ho sbagliato io a intenderla nel senso che forse lei la intendeva nel senso di non ostentare la propria professionalità nei confronti dell'altro forse lei la intendeva così e però per fare un una metafora un paragone con l'altra mia professione che è l'essere cantante e da uno stimolo anche che mi arriva dallo stesso tutor quando si fa c'è la differenza tra chi fa il karaoke e chi fa il concerto nel senso che se chi fa un bel karaoke fa una bella performance e scatena l'applauso però chi fa un bel concerto scatena sì l'applauso ma lascia un consiglio e un ricordo di quello che ha fatto tutto qua tutto bene allora adesso tocca a te hai visto hai avuto hai voluto la bicicletta dicono qua in Trentino allora diciamo prima la Diego e Filippo no Filippo assieme deve essere il primo e l'ultimo per dire probabilmente l'ha interpretata Diego cioè che che il nostro anche se possiamo giurirvi parole cioè che il nostro specialismo è costruire relazioni lo lamentiamo così per esperienza in questi trent'anni appunto quel che vedo è il rischio a generare degli stagni linguistici e delle e delle sorte di autarchie cognitive ma proprio perché c'era anche diciamo un dicono diciamo difensivo adesso della categoria un dover affermare diciamo un'identità che partiva fragile rispetto a identità forti o pseudo forti l'assistenza sociale lo psicologo il medico lo psichiatra eccetera 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 quindi questo va bene dico solo che però siamo in un altro tempo cioè comunque anche l'immersione dell'educatore professionale è avvenuta in un tempo in cui c'era l'esaltazione dello specialismo la tecno scienza no il micro il il si chiama lì poi si chiama il micro microscopio cioè più tu stringi più tu diventi esperto nel bullone del sotto bullone più la produzione ha un rapporto quali quantitativo positivo ecco quel quel modo di interpretare la costruzione del valore secondo me ha fatto il suo tempo la dico per gli architetti l'eccesso di specialismo dell'architetto è un problema per l'abitare bisogna ricordarsi che le miglior case nell'umanità non ne hanno fatte gli architetti li hanno fatte il popolo sono invenzione del popolo capito non gli hanno fatto degli specialisti le case che sono state più confacenti al vifere non li hanno costruite gli architetti ma non solo in Africa anche in Trentino Alto Adige quelle più intelligenti nel rapporto con la natura quelle più sostenibili quelle più a basso costo quelle dove si poteva trasmettere un certo forma del vivere non soltanto una parte materiale lo dico perché ultimamente sono dato un convegno con gli architetti mi sono divertito a portargli tutti questi casi è la stessa problema ce l'hanno gli architetti se vogliono far bene l'architetto è buona cosa che vanno a parlare con i contadini se vuoi far bene all'educatore va a parlare di più con gli idraulici e meno con gli assistenti esotali no fermati no ma l'idraulico è il tuo maestro e attenzione tu non fai lo sborone vai là gli spieghi cosa vuol dire l'educatore no tu capisci da lui che tipo di realtà sta percependo come entra dentro le case e ci entra da un altro punto di vista che non è il tuo quello lì è un valore fidati nei 30 anni precedenti non pensavamo così almeno ti dico a Lombardia non si pensava così tu eri lo specialista dell'educare no tu sei lo specialista del transitare dell'educare l'educare transita attraverso di te per me questo va preso sul serio perché anche tu non sei più una società verticale sei una società piatta è un tema serio dove monterai la tua autorità la tua autorevolezza queste per me oggi sono domande non risolte certo che è sempre un paradosso ma lo dico ti è richiesto il rischio della proposta c'è un'esposizione di sé e del proprio sapere della propria cognitività della propria morale io non ho paura di dire questa parola qui non solo dentro una procedura che era già stabilita perché la strada si fa camminando e quindi devi fare il passo questo punto è problematico posso dirlo perché veniamo da una fase molto proceduralizzata dove la sicurezza era disegnare dei percorsi certi perché questa era la trasparenza adesso ve la dico c'è tutto un film sulla sicurezza la certezza che ha alimentato dei grandi business chiaro? dei grandi controlli adesso qui è richiesto esporsi e l'altro è anche una ferita l'altro non è molto sempre simpatico a volte ricevi dei no però quando dicevo della montagna c'è una montagna in esplora non è già esplorata la montagna che c'è che per me c'è già e qualcuno si sta già camminando perché questa è la bellezza della realtà che supera di gran lunga il pensiero e addirittura l'essere per quello che mi riguarda la realtà è più grande ma tu ti devi esporre è un po' l'inmezzo secondo me che si ridisegna la professione cioè forse meno male che siamo arrivati tardi non ripetiamo le stesse modalità di corporative che sono state fatte dagli altri mentre noi diciamo nel finale secolo abbiamo cercato di ripetere lo stesso modellino che stava franando clamorosamente lo stesso problema l'ha avuto il terzo settore che ha ripetuto lo stesso modellino di rappresentanza di rappresentanze che stavano già franando per conto loro è sotto gli occhi di tutti la difficoltà del sindacato delle rappresentanze degli artigiani delle rappresentanze delle industrie grandi grandi agenti determinanti della costruzione della democrazia in questo paese oggi in grandissima difficoltà forse più dei partiti qui mi ricollego diciamo alle domande più di natura politica guarda te la dico come esperienza personale diciamo visto che siamo tra persone che si stimano io in questa fase sto aiutando Passare a fare un partito a centro-destra aiutando Renzi a fare la legge sul terzo settore facendo completamente l'anarchico rispetto a alcuni contenuti che non vengono apprezzati né da Passare né da Renzi che sono la condizione di questo bipolarismo assurdo se vuoi il mio parere che non sta dentro il modello italiano però questa è la condizione se posso scrivere delle cose scrivere dei decreti legge scrivere un pezzo di libro sostenere una certa campagna con la consapevolezza che probabilmente non servirà a nulla ma te lo dico sorridendo però questo oggi te lo dico sorridendo mi importa poco perché io sono convinto che il punto vincente saranno le esperienze istituenti non le retoriche il punto è Filippo l'anno prossimo quando lavorerà farà il cricetto sulla rotella o esce dalla gabbia è così l'Italia senza esperienze istituenti non genera politiche è durissimo quasi mai con Basaglia abbiamo fatto anche un gran casino quando fu fatto se noi anticipiamo troppo l'impianto legislativo la realtà fa fatica a seguire l'Italia funziona meglio quando ha delle esperienze che hanno si sono prese il rischio e uso la parola della trasgressione sana per quello che mi riguarda e hanno collocato delle esperienze riconosciute riconoscibili verificabili non nascoste esperienze le chiamo appunto istituenti secondo me siamo in questa fase qua allora diciamo uno scambio diciamo quasi affettivo personale io mi vivo così questo mi dà un po' di serenità si soffro come un cane ogni tanto mi incazzo come una bestia la cosa di Roma dell'altro giorno in cui tutti hanno giocato al gioco della mela marcia ma io mi incazzo ma che mela marcia funziona così funziona così siccome l'ho detto mi hanno massacrato sai perché sono matto perché come mi permetto voglio rientrare nel sistema quelli delle centrali cooperativi non mi riguarda parlamonti di Dio se vuoi che ti aiuto a pulire il cesso vengo a pulire il cesso ma non ho nessuna voglia di potere è chiaro che rispetto a diciamo a una deontologia da una parte o chiamala che vuoi a una moralità dall'altra quando sei di fronte al potere devi dire che cosa vuoi fare quella forse come dire è la simmetria più alta da giocare io non mi sento inferiore per nulla devo stare attento a non scivolare nella superbia dall'altra parte e qui la compagnia conta il gruppo le chiamate lo che volete stare con altri con cui ogni tanto intorno al focherello ti ritrovi e dici allora come va tutti un po' maccati un po' scassati dopo si ritorna ognuno in una certa diaspora e questo è da accettare ma lo aggiungo rispetto al tema della comunità che tornava più volte è tornata un'altra volta cioè io sono convinto che la comunità che c'è è quella che non c'è ed è questo che salva la comunità perché la comunità che c'è in salsa italiana è sempre immunitas si chiude sempre non puoi cambiare la comunità che c'è la comunità che c'è tende al difensivo in Italia ma pensa addirittura all'uso dei dialetti italiani che è strepitoso bellissimo ma tende a essere conclusivo non inclusivo disegna il confine dall'altra parte però non mi voglio vendere un modello anglosassone di pura società funzionalista ci sono delle grandi strutture e delle grandi infrastrutture funzionali che distribuiscono diciamo un po' di diritti adesso questo tema vedo che nessuno torna ma è un temone è pazzesco di diritti e un po' di piaceri e vai entri nell'autostrada per fare il tuo a me quella società lì non mi piace capito ho molti amici inglesi ho anche questo nome perché mio papà viene dall'Australia quindi non è che mi fa schifo gli anglosassoni noi centriamo poco capito con quelle forme in questo senso non mi interessa la big society sono però per destatalizzare tutto io in Italia ma non per privatizzare per socializzare istituendo forme nuove di partecipazione così vado più in là in vista della proposta per me politica i beni di comunità in Italia non li deve tenere in mano l'amministrazione pubblica perché i beni di comunità in Italia non sono soltanto beni funzionali sono beni relazionali questo è tipico dell'Italia produce anche la mafia attenzione quel punto lì produce delle patologie pazzesche perché è di derivazione sostanzialmente diciamo latino-cattolica cioè produce delle chiusure familistiche impressionanti ma abbiamo 150 anni di dimostrazione che la pubblica amministrazione non è in grado di gestire virtuosamente queste cose ma non perché si ruba perché queste cose ma no ma io ho lavorato che la pubblica amministrazione non è questo il mio problema non è è un problema di che cosa ha senso in Italia ha senso una pubblica amministrazione sì sì assolutamente molto leggera molto specializzata molto agenzia di sviluppo molto inizio e molto fine quasi nulla in mezzo molto ti accompagno ti accompagno cioè sarebbe da fare un film ma una prossima il problema è che dentro il terzo settore ha tradito il suo ruolo il terzo settore è un fornitore pubblico fine questo è il problema e dall'altra parte un po' di faunresing con i ricchi sai che tristezza è polarizzato su queste due cose e non è riuscito a costruire in mezzo uno spazio importante costituzionale che noi abbiamo in costituzione tra l'altro voi del Trentino l'avete fatto mettere in costituzione l'articolo 42 parlo della vecchia costituzione e non del pezzo nuovo sulla sussidiarietà orizzontale parlo di quando De Gasperi ha voluto inserire l'idea dell'autoorganizzazione dei lavoratori nel produrre l'energia elettrica perché era l'esperienza delle cooperative che avevate sulle dighe scusate queste digressioni ma la vostra storia dovete essere il terzo settore si è perso si è perso cazzo c'è Roma ma perché viene fuori Roma non è che Buzzi è particolarmente stronza e se qui ci sono cooperative sociali ma li conoscete i carcerati che avete inserito voi nelle B sono come Buzzi è che questo è lì da 30 anni che fa il presidente in un sistema di scambio politico pazzesco che è fatto in un certo modo ma come vuoi che finisca uno così tu a Roma se vai a mangiare qualcosa come minimo parli da 5 milioni su e sotto se è un pezzente io tutte le volte che andavo a Roma mi leggevo Renzo Tramaglino e il pezzo dei Promessi Sposi come un atto spirituale di purificazione no voi ridete voi frequentate Roma 10 anni di seguito e non passe e stando ai tavoli diciamo facendo il borderline totale dovete avere una struttura che vi rega ma posso dire frequentate troppo la provincia di Trento a voi non uscite mica vivi le strutture dove la politica media denaro e in Italia la politica media il 53% del PIL 53% del PIL italiano è mediato dalla politica avete capito? ma come volete che finisca? come volete che sia sotto c'hai le corti sono finiti i partiti hai dei feudi di persone singole degli io famosi io di prima capito? c'è molto da fare sì molta pazienza per farlo servono delle esperienze istituenti nel frattempo bisogna dare una mano a chi a chi si dà da fare ma per me puoi metterti anche in lista ma non cambia da dentro perché al punto che vanno inseriti punti nuovi nuovi io non ce li ho del tutto in mente ho in mente ad esempio che però i beni di comunità l'acqua l'energia i trasporti la scuola la sanità siano luoghi di generazione di democrazia se no saranno quasi tutti i luoghi che si svenderanno alla privatizzazione perché il debito in Italia si recupererà così sono pronti abbiamo socializzato i debiti verranno venduti tutti alzeranno i cartelli ma gli stessi che li vendono vanno a riprenderli dall'altra parte voi siete destinati a lavorare con l'assicurazione lo sapete non ci vuole mica tanto certo che serve un passaggio politico servono però anche luoghi di riflessione luoghi di sperimentazione reale facciamo finta no no ti esponi ti esponi faccio due esempi concreti quando con gli altri amici a metà degli anni 2000 almeno nella cooperazione sociale si vedeva quando tu vedevi i cooperativi sociali che compravano squadre di calcio o che finiva che questo succedeva già negli anni 2000 che bisogna aspettare buzzi nel 2015 è chiaro che bisogna immaginare dove venivano i soldi tutti dal pubblico dovevi cominciare a immaginare per forza dell'altro e allora quando ho cominciato a guardare fuori scopri che altro ce n'è già tantissimo ma non dei ricchi e le badanti che ti ho fatto un esempio prima trattasi di 15 miliardi chi del terzo settore si è veramente interessato alle badanti no famiglie lasciate completamente sole chi del terzo settore si aveva un mercato interessantissimo anche economico te lo faccio lo stronzo adesso bergamasco chi ha fatto dei pensieri innovativi nessuno qualche corso di formazione ma andate a cacare i corsi di formazione di rome qualche idea ti aveva ma ti faccio quell'esempio lì bene allora io mi sono inventato il mercato dei dentisti poi sono andato a vedere fischia c'era anche qua dei ginecologi cazzo poi c'era anche qua dei cardiologi cioè fuori dall'asl nel 2007 c'erano già 32 miliardi di euro in Italia 32 miliardi di euro non sarebbero più rientrati nelle asl non è possibile le regioni sono arrivate all'80 90% ma io tutta quell'area lì devo lasciarla solo l'idea prestazione moneta quelle cose lì non dicono nulla a me che ho a cuore la socialità le relazioni i beni delle persone mi fa schifo il dentista e no a me non mi fa schifo il dentista allora posso pensare dei luoghi di cura e non dei poliambulatori posso pensare di affiancare la psicoterapia al gruppo di autoaiuto al dentista e al ginecologo posso lavorare economicamente per portare vicinissimo al ticket quella roba lì si poteva sì ho trovato tanto terzo settore disponibile no molti idraulici sai cosa voleva il terzo settore a tale accreditamento con l'ente pubblico dico ma perché devi guardare i 90 miliardi o i 110 guarda i 35 tu che me la meni a me che mi dici che sei le relazioni che sei la comunità che sei il bene che sei il dono o migliaia di famiglie vengono da te sei capace di propogli qualcosa al signore che viene col dentista sei capace di fermarti in un angolo costruirlo magari anche bello e parli della sua mamma con l'alzheimer posso pensare che la receptionist è un'educatrice e non una figona con le carcerete eh no e voi ridete trovate molto disponibili tra i vostri colleghi pochissimi perché uno in mente le perline è il disabile e il midollino pagato dall'assistente sociale eh no e il cuoio il cuoio le cose di cuoio due coglioni sti portafogli di cuoio brutti madonna basta cuoio te ne faccio un altro sto lavorando nella casba di Mazzara del Vallo fidati roba hard completamente in solitudine e non me ne frega un cazzo se fa bene così dov'è il punto di partenza che si comprano case a 5.000 euro è un interesse il punto di partenza e ci sono tanti anziani del nord che gli fa molto bene passare le vacanze e passare anche si fa il bagno sotto sotto a Segesta o sotto Selinute e fai il bagno a novembre e mangi la tita che è libidine mangi pure in spiaggia la vita costa la metà tassi di disoccupazione 65% a Mazzara del Vallo si può mettere insieme un interesse di anziani del nord con un interesse del sud sto facendo lo speculatore cosa sto facendo io lì educatore sto facendo l'educatore non solo però sto facendo anche l'immobiliarista sto facendo anche l'imprenditore mi sono beccato già due denunce già quattro posti di lavoro però lì ogni famiglia c'ha un ragazzo dopo i vent'anni che va via sto cambiando il mondo non lo so sta succedendo qualcosa sta succedendo qualcosa settimana prossima mi ha chiamato il vescovo di Agrigento per fare la stessa cosa ad Agrigento sopra la Valle dei Templi allora io cosa ho fatto sono andato dalle cooperative ricche nelle Lombardie gli ho detto ma che cazzo tenete voi disabili come nelle serre spendendo costi pazzeschi di riscaldamento come per farcire i crisantemi si portano giù a Agosto e si torna indietro a Natale e facciamo l'olio il vino vendiamo i gas sono stronzo boh e no e questo è esporso fermo ti guardo perché te sei giovane devi capire ma anche mandarmi a fanculo però io voglio che mi mandi a fanculo con cognizione di causa tu ti devi esporre però cazzo se stai là al centro socioeducativo con le perline eh non ti viene l'idea se stai nella tua bella comunità alloggio 60 euro giorno vuoto per pieno e ti incazzi perché ti hanno tolto due centesimi non cambi un cazzo tra poco ti verrà tolta tranquillo tra poco ve le tolgono tutte state sereniche mercati si perderanno tutti quelli lì quel meccanismo lì non regge più allora io penso che si possono produrre innovazioni e servizi sì partendo dai legami mischiando cose che non si mischiavano viva la Ryanair mi viene a dire che arriva a Trapani capito adesso posso farlo e poi quando fai questo cosa fai monti anche un autonolleggio per non solo per te ma anche per gli altri turisti che vanno a che vanno a ad Agrigento capito perché non c'è l'autonolleggio e sai la cosa più bella la grande soddisfazione che è venuto il sindaco un vecchio fascistone ma ci siamo conosciuti allora dottodotti quanti soldi vuole nulla e quello è sbiancato come non vuole soldi dottor non voglio un cazzo da lei niente non voglio soldi questo non credeva di quello che ho detto guardi se noi siamo bravi quest'anno siamo arrivati a otto investitori arriviamo a venti famiglie del nord che investono mediamente 35 mila euro quindi siamo intorno insomma al milione di euro quando siamo arrivati lì e un pezzettino del quartierino è a posto allora io verrò da lei insieme al vescovo e gli dirò facciamo un progetto europeo per sistemare la strada e le luci allora lì lei è utile per sistemare le nostre case lei non serve a nulla perché lì stanno ancora prendendo le case singole i soldi del belice capito del belice con gli anziani belice 66 cazzo allora mi dico eh ma quella lì è mazzara non si può fare non ve la racconto in salsa bergamasca Trentino mi astengo perché lo conosco trovo bene mi astengo e non vorrei essere cacciato definitivamente dai costi confini e non è e ti prego non è quella questione ideologica i poveri ma la domanda è ma chi cazzo è povero e chi non è povero guardiamolo lungo l'arco della vita lungo l'arco della vita bene che si è allungata la vita ma vuol dire che la sfiga tocca a tutti allora eh sì eh cioè noi stiamo parlando di noi non solo di quelli che sono appunto non è che il mondo si divide più tra quelli che sanno e sono specializzati e gli utenti che parola utenti ci sono ecco non ci sono più gli utenti ci sono dei noi che in tempi di vita cronologica esistenziale affettiva diversi si scambiano dei ruoli io tra poco con quella vita che faccio eh il vecchio Dario monterà sull'equip di qua e verrà e mi porterete sulle pinete non so cosa mi farete fare spero di avere tanti amici allora no ecco le perline se mi cattate quelle perline da Rione non vengo più e le perline no vedi le donne furbe cioè capite legami legami non di immunitas però di comunitas che non c'è che sta dentro una diaspora oggi si partecipa contemporaneamente a più comunità anche digitali non mi fanno schifo ma chi connette il senso di queste cose il senso di queste cose in nome di una specie di laicità di non so che tipo il senso è stato completamente rimosso l'uomo non vive senza senso signori miei fosse anche il senso più volgare di questo mondo ma noi abbiamo bisogno di senso non siamo solo funzione non siamo solo qualcosa da riempire siamo un senso da attribuire una ricerca da fare certo rispetto al passato hai meno certezza sul punto di partenza però alimenti il desiderio di quel punto di ricerca qui secondo me c'è molto cioè se noi in questi 30 anni è come se tornassimo al momento istituente questa è la mia proposta cioè adesso abbiamo super giù la stessa età noi cioè in fondo questo tipo di professione viene da un momento in cui sono mica state le istituzioni classiche sono state sostanzialmente dei borderline oggi le avete sotto forma diciamo ieratica e bella precisa io sono rimasto più rincoglionito però cioè voi avevate due grandi spinte una veniva dal Vaticano II e una veniva dal 68 queste sono state le due grandi spinte quindi sono diciamo a posto perché cito l'ala di qua e l'ala di là ma avevate due spinte che chiedevano forme più adulte di libertà di giustizia di socialità di equità facendo queste nascevano delle esperienze le esperienze non volevano essere abbandonate diciamo ad una ad una labilità solo del che passava rapidamente allora ci si confrontava con l'istituzione allora chiedevi all'istituzione di prendersi a carico giustissimo quel processo lì infatti io dico la grande cosa esempio che ha fatto la cooperazione sociale è che ha costretto tutti i comuni a mettere a bilancio i servizi sociali ecco ma quel filì è finito basta da una a 12.000 cooperative sociali hanno fatto in modo che da Crotone a Trento dove si faceva prima Crotone recentemente ci fosse assistenza omiciliare ma più che l'assistenza omiciliare ci fosse una voce in bilancio guardate che non era così in Italia stavi parlando di pochissime zone dall'altra parte avevi la famosa Mosa Maestra che al sabato staccava due assegnetti da 100 euro moneta abbiamo fatto in modo che le prestazioni e i servizi saturassero in modo significativo i bilanci pubblici ecco basta 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 perché le badanti dicono che non basta più perché la psicoterapia privata dicono che non basta più perché il dentista dicono che non basta più perché il ginecologo dicono che non basta più non possiamo immaginare che si salga la spesa pubblica su quel punto lì possiamo immaginare invece di riconnetterla perché c'è una connessione anche istituzionale con forme nascenti nella società ora io ai miei amici Cellini li ho spiegato spesso non si fa sussidiarietà con i soldi pubblici non si può fare sussidiarietà con i soldi pubblici ma proprio teoricamente capito perché diventano i soldi agli amici di qua saranno i Cellini di là saranno i comunisti dall'altra parte saranno i Casignani dall'altra parte sarà mio nonno questo succede nei sistemi bloccati immunitas italiani però senza esperienze istituenti non si può fare questo percorso è questo e ce ne sono troppo poche cioè il mio invito è far diventare ognuna delle vostre esperienze una specie di papà che desidera un figlio una mamma che desidera un figlio allora avete una comunità alloggio partorite qualcosa d'altro avete un CSE per disabili partorite qualcosa d'altro avete un centro di urno per anziani partorite qualcosa d'altro avete una grande cooperativa partorite qualcosa d'altro partorite qualcosa insomma e prendetevene cura e provate a fare in modo che parli che costruisca la sua lingua ma la stessa cosa la dico ai comuni però la dico agli ordini religiosi cioè chi oggi sta occupando lo spazio cito Papa Francesco si interessi più del processo temporale che dell'occupazione dello spazio non può far a meno di occuparlo perché tu dopo una certa età in avanti non cambi più stai lì e cosa vuoi fare ma almeno fai in modo che si apra un processo che riguarda il tempo mi segui? ma in fondo in salsa italiana non è la stessa roba che hanno fatto gli ordini religiosi che hanno fatto le istituzioni comunali all'inizio cioè ognuna si è messa nella condizione poi di generare qualche cosa d'altro uso spesso il tema di generatività perché con Mauro abbiamo lavorato tanto su questo tema qui ma questo è un punto secondo me fondamentale ed è anche un punto per me professionale capisco di essere partigiano eh lo so però mi chiamo Johnny abito a Bergamo sto a Mazzara del Vallo cioè capito quindi non temo più da questo punto di vista anche il limite delle cose che so dire devo dire che però ci credo ecco l'ultima cosa che vi dico senza fede non si fa nulla fede nuda eh in questo momento di fronte alla montagna non è il calcolo che vi fa salire la montagna non è il bisogno che vi fa salire la montagna è la fede che vi fa salire la montagna la fede cioè solo la fede e il desiderio sono generativi le altre condizioni sono giuste condizioni di messa a punto non so come dire controllerai 200.000 volte gli scarponi li luciderai ma non parti capito li pesi ti cambi la giacca a vento ma stai sempre lì dentro dentro il rifugio capito attenzione attenzione guardate che non è assolutamente scontato che le cose vadano avanti cioè non immaginatevi che andrà là tranquillo che quel che fate oggi lo fate anche tra 5 anni lo dico anche qua davanti al pubblico non usate quell'immaginario lì pericolosissimo non è così non è così perché il giorno è cattivo torno a dirvelo le condizioni strutturali di più di più parti da quella economica a quella politica a quella sociale e a quella della dimensione delle persone non lo permettono questo e non è detto che quel che viene dopo se noi non lo costruiamo sia meglio allora tre grandi fondi pensione mi hanno chiesto di entrare in consiglio di amministrazione pensate come sono matti sapete il punto qual era? perché loro sono interessati alla mia visione della società ma perché cosa stanno pensando loro? tenete conto che quando pensate ai fondi pensione non immaginatevi sono i fondi pensione degli operai della Ford perché il mondo è complicato oggi sono i fondi pensione di quelli della General Electric cioè poi quello in cima in cima si fa tanti soldi ma i soldi vengono fatti girare per il mondo per dargli la pensione quindi è complicata la vicenda capito? e qual è il punto? questi hanno in mente esattamente i nostri discorsi salute 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 e capiscono benissimo che devono compensare alla quantità di tecno farmacia di tecno scienza devono compensare un po' in termini relazionali perché il tema della cronicità è un temone pazzesco adesso stanno lucrando tantissimo mettendo impropriamente e uso opposto la parola mettendo e sono disponibili a discuterne nei nostri ospedali gente che non dovrebbe essere messa in ospedale e che fa alzare i budget capito? 50% dei ricoveri in Italia sono impropri perché sono cronici non andrebbero curati in dipartimenti specialistici di medicina di cardiologia sono cronici andrebbero curati ma il meccanismo territoriale non l'hanno ancora trovato quindi preparatevi a voler pullulare poliambulatori dentisti volanti viaggi dove si metterà insieme piacere salute preparatevi poi qui voi siete ricchi voi verrete proprio piallati la seconda sono i sistemi di lungo periodo di assicurazione ai rischi della vita welfare welfare capisci? ma perché questa dinamica se girate un po' andate in Germania andate in Francia andate in Spagna andate in Portogallo andate dove vuoi andate nei paesi dell'est che la stanno spingendo è ormai evidente che è così quindi per quello che io parlo che se vogliamo difendere il pubblico dobbiamo assolutamente trasformarlo cioè se vogliamo difendere la tensione universalistica che è la cosa sana di ciò che abbiamo pensato 40 anni fa dobbiamo immaginarci una pluralità di soggetti che la difenda io parlo di poliarchia più archè ti servono con dentro quel bene per difendere quel bene più tu lo concentri in un'unica istituzione più tu lo vedrai saltare mi segui? questo richiede però un nuovo contratto sociale non so dirtelo fino in fondo credo che siamo di una generazione che anche deve avere come dire il riconoscimento di aver avuto grandi valori ma anche la pazienza di aspettare qualcuno a cui trasmetterli capito? noi probabilmente la terra promessa non la vediamo sta serena è morto anche Mosè prima prima della salitella il buon Dio l'ha seccato però io sono abbastanza tranquillo sono più interessato a custodirlo e a passarlo a lui questo è un processo che avverrà nei prossimi 5-10 anni non è lunghissimo perché le condizioni economiche sono molto precarie ma molto 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 mi spiace se vi aumento l'ansia ma è così però c'è dall'altra parte grandissimi spazi anche di disponibilità di generosità non del ricco che ti dà i soldi ve lo dicevo prima andate a casa a parlare con le famiglie dei disabili dei loro risparmi avete quell'autorità lì? perché non sanno che cosa fare loro perché non c'è più il fratello a cui affidarli il fratello si è separato sette volte e vive a Sydney e no loro avevano risparmiato immaginando di darlo a Luigi che abitava lì a Levico anche più è nel Levico non so se Levico esiste ancora cioè il paese esiste ancora vabbè casualmente però Luigi non c'è più c'è i cazzi suoi capito? e anche se la mamma gli dà 500 mila euro e gli dice no io Gianfranco per 25 anni non me lo porto in casa perché si parla di questo capito? ma con i minori è la stessa cosa fate un po' di ragionamenti sugli affidi che vanno oltre la legislazione che siano capaci di costruire strutturalmente comunità perché le famiglie hanno loro stesse bisogno di venire fuori dall'appartamento non è che sono tutti malati che aspettano solo di uccidere la moglie ma sono consapevoli che la voglia di uccidere sale scusate parlo di me voi siete chiaramente santi che non reggono dentro quello spazio lì mi state capendo andate a incontrare gli artigiani ci sono tanti di quei saperi manuali dell'intelligenza bellissima che si sta completamente perdendo e connetteteli con gli adolescenti strutturalmente connetteteli non solo nell'ora di laboratorio non delle perline sono dell'aggiustamento radio connettete quell'amicizia quel sapore quel sapere ma dentro una cosa che deve essere seria adesso no se no mi pagate sette fatture suggerimenti strategici che vi do va bene allora grazie facciamo un applauso grazie a voi di ringraziamento per la generosità per l'esposizione della proposta la generosità della proposta il rischio di dire quello che si pensa e di portare la propria esperienza pubblicamente nell'esperanza che sia ispirativa di una fase istituente come dicevi no? e quindi allora adesso però siamo in fase istituente però nello stesso tempo dobbiamo dobbiamo cambiare il programma perché per vari motivi abbiamo dovuto ribaltare l'ordine dei due relatori e mi assumo la responsabilità di aver lasciato lo spazio questo spazio di dibattito ricco interessante e quindi di esserci mangiati un pezzo di tempo di workshop allora siccome era previsto la pausa pranzo alle 12 e mezza io vi proporrei sono le 12 e 10 facciamo subito adesso la pausa perché abbiamo bisogno di un po' di sedimentare e invece di cominciare alle due cominciamo all'una e mezza vi va bene all'una e mezza cominciamo i workshop facciamo tre gruppi perché così riusciamo a parlare tutti quindi una e mezza tre e mezza vuol dire due ore di workshop nelle quali avrete un facilitatore e un ricercatore il facilitatore ha il ruolo di aiutarvi a comunicare di introdurre e gestire la comunicazione il ricercatore ha il ruolo di prendere nota delle cose che escono dei contenuti al fine di tornare poi in plenaria a esporla a Ennio che riceverà quindi diciamo alcune domande alcune sollecitazioni che arrivano dai vostri gruppi alle tre e mezza li riceverà e magistralmente li comporrà assieme a quello che lui si era preparato di dirvi perché il tema è un tema importante magari cioè questo discorso dalle provocazioni dalla rimotivazione a buttarsi in campo che ci arriva questa mattina a un aiuto a come facilitare questi processi partecipativi no? è forse un po' il cuore della tua expertise della tua esperienza no? quindi se mi confermi questo allora ci aspettiamo da Ennio un aiutarci a un po' sistematizzare alcuni strumenti per facilitare questa partecipazione no? per facilitare la messa in campo di idee di idee istitutive ok? quindi nel mezzo c'è il vostro workshop quindi ne faremo tre uno sta qui in aula magna con Pina e Guido l'altro va in aula 18 con Diego Giacometti e Katia Guerriero l'altro va in aula 19 con Alessandro Dell'Ai non so più se Stefano Bertogli probabilmente lo abbiamo perso perché aveva detto che andava via ci sei? no però va bene allora con Alessandro Dell'Ai se riesci un pezzettino Stefano a esserci va bene e Marco De Gasperi in aula 19 chiedo due cose poi andiamo in pausa la prima che la composizione dei gruppi sia mista quindi adesso fuori c'è la possibilità di iscriversi mista nel senso non dal punto di vista sessuale vabbè per carità di genere va bene mista che non ci siano tutti gli studenti in un gruppo per piacere perché altrimenti facevamo lezione normale e tutti gli operatori da là ok quindi un po' mescolatevi vi conoscete più o meno e quindi in modo da in modo da cosa fare attenti scusate ultima cosa nei lavori di gruppo vi prego metodologicamente di non partire con delle teorie partite dalla vostra esperienza ok per portare il vostro contributo nel gruppo quindi dalla vostra esperienza personale professionale per poi piano piano costruire qualcosa grazie e buon lavoro ci troviamo qui alle tre e mezza pausa compresa una e mezza lavori di gruppo grazie